Saluto tutti i nostri telespettatori, spero che le mie opinioni sempre sopra le parti, sempre obiettive, a volte critiche, a volte meno, però io dico sempre quello che penso, cerco di essere sempre più costruttivo e obiettivo di sempre, come ho sempre fatto. Quanto mi è difficile dirlo, ciao Carmi, fai buon viaggio, riposi in pace. Venerdì 28 aprile, si è spento solo i 55 anni in una clinica a Verona dopo una velocia e bastarda, come direbbe Gianluca Vialli, malattia, il nostro bombero, o meglio il nostro portierone del calcio di Antena 2, Luca Carminati. In credulità tra i tantissimi che ti hanno voluto bene e ricorda le tue gag sul calcio elettantistico, per me, per noi di Antena 2 eri molto di più di un amico, eri l'opinionista, ma no che dico, eri quello che con me conducevi, organizzavi le trasmissioni del calcio locale, che insieme abbiamo fatto crescere. Le tante testimonianze ricevute in questi giorni mi fanno dire, Carmi, che ce l'avevamo fatta, eravamo nel cuore di tante società. Punta, attaccante calcisticamente nato nel suo Leffe, è stato il portierone degli lettanti, quelli di una volta, quelli del calcio tosto, vero, dove non c'era la regola dei giovani per capirci. Poi allenatori del calcio femminile, con successi che ricordavi volentieri, ed ora, da qualche anno, ad opinionare l'Inter e l'Atalanta, ma soprattutto sempre con me, nel calcio di lettantistico, il nostro calcio. Solo di fronte a questi eventi ci ricordiamo di quanto siamo fragili davanti alla vita, basta un nulla e tutto diventa ricordi, ricordi che porterò sempre con me fino a quando ci rivedremo e mi dirai ciao Arna, ci sentiamo, grazie di tutto e che il tuo viaggio sia leggero, grande Carmi. Buonasera, insomma, è difficile, è difficile, vedremo cosa succederà questa sera, in questa puntata, in parte a me c'è anche l'Elisa, siamo i due, che eravamo i due conduttori, insieme a Luca per le sue trasmissioni, dove era sempre opinista con noi. Fra poco poi presenteremo anche gli ospiti, perché abbiamo voluto, oltre alla squadra, essere qua due persone che erano legatissime a Luca Carminati. Non sapevamo veramente, onestamente, cosa scegliere questa sera, però personalmente, insieme anche ai miei amici, a noi, il gruppo di Antena 2 Sport, abbiamo detto, non è bello spegnere la puntata e non andare in onda solo per ricordare per il lutto di Luca Carminati, ma è meglio ricordarlo proprio dedicandogli tutta la puntata e per me tutti gli anni che faremo, dedicheremo a Luca Carminati il nostro tempi supplementari, il nostro tutt'adì, dove lui era, insieme a me, il conduttore. Mi scuso prima di tutto con le società, perché stasera è una puntata eccezionale, speciale, e sarà dedicata interamente a Luca Carminati. Non so quante immagini riusciremo a mandare, non so come faremo passare da ricordo di Luca alle immagini del calcio giocato, però cerchiamo di farlo, perché lui viveva di questo. Nel DNA, a parte il calcio giocato, aveva la voglia di televisione, la voglia di essersi, la voglia di parlare di calcio, la voglia di stare in amicizia. E allora con me stasera a condurre, lascio l'Elisa, perché, insomma, io e te Elisa, per Luca, insomma, eravamo importanti, come per noi era importante lui. E ti lascio a te presentare anche. Sì, effettivamente è un po' particolare essere qui a fianco a te a condurre un po' questa puntata di tempi supplementari, una puntata davvero speciale. Di solito la mia presenza significava una puntata speciale, ma di solito era inizio, fine campionato, piuttosto che la puntata di Natale. Questa volta è una puntata speciale perché dobbiamo salutare il nostro portierone, perché comunque lui, al di là di quello che ha rappresentato poi nella nostra TV, nelle TV bergamasche, perché sappiamo benissimo quanto a lui piaceva, anche commentare il nostro calcio del tantistico e non solo, anche nelle altre emittenti, insomma, ha significato tanto per il calcio bergamasco e per il calcio femminile, perché dobbiamo ricordare anche una parentesi davvero molto importante da allenatore, perché credo che il calcio femminile bergamasco deve proprio tanto a Luca Carminati, e poi sicuramente nel corso di tempi supplementari andremo anche a ricordare questa pagina. Arnaldo, è difficile però, eccole qua, ci sono anche alcune foto, chiaramente, le sue donne, le sue ragazze, che ancora quando lo incontravano lo chiamavano mister, perché chiaramente quando uno è mister è mister per tutta la vita, ma è il caso adesso di andare a presentare tutta quella che è la squadra, il resto della squadra è immancabile, il nostro Paolo Piccinelli. Ciao, buonasera a tutti. Paolo, che viveva tutta insieme a Carmi, a tempi supplementari, Stefano Savoldelli, ovviamente ne eravamo i quattro, io ho detto sul gruppo i quattro moschettieri, perché con contatto eravamo un quattro, dunque eravamo i quattro moschettieri del calcio, ma abbiamo voluto avere con noi il suo primo allenatore, Gigi, se non sbaglio, uno dei primi allenatori. Abbiamo iniziato a costruire insieme il settore giovanile dell'EF. Dunque molto legatissimo a Luca Carminati, tutte le volte che si vedevano, ciao Gigi, abbracciava, apriva quelle braccia, Carmi, ti portava via con lui e Giorgio Rovecchi, perché al di là della gandinese amicizia dati a Roma, forse l'ultimo che l'hai visto fuori ospedale. Sì, abbiamo fatto l'ultimo viaggio a Roma un mese fa insieme, è stato... è dura, ma lui voleva che eravamo qua ancora a ricordarlo, come avrebbe voluto lui, come avrebbe detto lui, dai, prendete e fate questa puntata, perché la vita va avanti e ci manca un sacco, però d'altronde... Abbiamo visto le testate giornalistiche, mi fa piacere, tante squadre di calcio, la sezione, la federazione, gli arbitri, perché sai, ricordare il minuto di silenzio per Gianluca Di Ali, eccetera, va bene l'ambito nazionale. Luca Carminati noi era amicissimo, noi lo conoscevamo, calcio bergamasco lo conosce tanto, però mettersi in moto in due giorni, invece si è messo in moto una cosa importante, che a me ha fatto enormemente piacere per Luca, soprattutto perché tante risposte, tante... e vedremo, vedremo tanti contributi che arrivano in questa, all'inizio di puntata, dove tutti vogliono ricordare Luca Carminati, ovviamente è una persona troppo importante per noi, c'è questa maglia, c'è il suo ricordo lì, oggi è la maglia che ha andassato. Anche al nostro Angelo, che chiaramente fa parte del team di Antenna 2, ma fa parte chiaramente anche del team di tempi supplementari, questa è la maglia di Luca, che terremo sempre qui in studio, e terrete sempre qui in studio per tempi supplementari. Grazie a Bogazzi che c'era donata, perché ce l'avevano loro come Albino Gandino, quando la rappresentativa Vassaliana affronta l'Atalanta, questa maglia sarà sempre con noi a farci compagnia, come che Luca fosse sempre qua con noi a farci compagnia. Queste sono un po' di immagini, Paolo diceva che parate che faceva ancora, forse non notavamo prima, ma... Queste credo siano le ultime, no? Le ultime, le ultime, luglio 2022 contro l'Atalanta, dove giocò addirittura due partite in una settimana, in tre giorni, perché Roby Radice è stato chiamato a organizzare queste due match. Se non sbaglio, qualche giocatore, forse anche il mister Gasperini, ha detto ma chi è questo? Giusto? Nel senso, nonostante l'età, ha fatto alcuni interventi importanti, insomma, ha lasciato un grande ricordo, poi se avrò occasione, dirò anch'io due parole. Sì, è vero, l'età, poi ovviamente il fatto che, sì, lui si allenava, perché tutti i sabato alzano a giocare, ho visto anche altre televisioni, la TV un prima, insomma, anche il Bergamo TV che l'hanno ricordato alla grande, come fai a non ricordarlo, anche perché poi il sabato era in mezzo agli ex giocatori dell'Atalanta, faceva parte degli storici dell'Atalanta, del Bergen Soccer, insomma, lui bastava chiamarlo, dire c'è da giocare, c'è da mangiare, vai tranquillo, vai tranquillo che Luca c'era con noi, insomma. Io partirei con il ricordo di Robi Radici. Partiamo, visto che l'abbiamo citato chiaramente, che lui era il mister di questa rappresentativa. Si teneva a essere qua, magari anche lui, dopo per molti studi puoi rivelarlo a Robi Radici, però ieri Robi Radici a Stefano non ha voluto parlare la partita, non gliene fregava, forse più di tanto la partita, ma voleva ricordare Stefano, no? Voleva ricordare... Sì, come eravamo d'accordo, io l'ho detto direttamente, io mister, non parliamo nemmeno della partita, e le faccio dire semplicemente un ricordo di quello che aveva presentato per lei Luca Carminati. Andiamo a sentire, dai, servizio con Robi Radici, le sue parole. Roberto, la scomparsa di Carminati ha colpito tutti e ovviamente tra questi ci sei anche tu, che lo conoscevi benissimo. Sì, Luca, è pazzesca la cosa, non ci si crede ancora e questo, secondo me, rispecchia un pensiero di tutti. Sembrava l'uomo più forte del mondo perché aveva questo fisico che lo accompagnava, che sprizzava forza da tutti i pori. E comunque è stato una persona, un personaggio che comunque ha lasciato un vuoto perché lo conoscevano tutti, amico di tutti, ha sempre detto le cose che pensava con i dovuti modi, senza mai offendere nessuno. aveva probabilmente un piccolo debole per me perché nonostante il fatto che siamo retrocessi, parlava sempre bene del mio Albino Gandino. Abbiamo giocato insieme nella Nossese, è stato un portiere pazzesco e oltretutto a un certo punto della sua crescita non sapeva bene se fare l'attaccante o fare il portiere perché nel periodo di signori all'Effe il sabato giocava da portiere e la domenica da attaccante. Niente, ci mancherà tantissimo e penso e credo che mancherà tantissimo anche a voi e mancherà tantissimo anche nella prossima amichevole con l'Atalanta, molto probabilmente. Niente, quindi un abbraccio, un abbraccio, è una cosa che ovviamente lascia di stucco. Decisi, ti ha chiamato in causa. In causa sì, Luca era così, è con me, ha fatto la punta, era indeciso se fare l'attaccante o fare il portiere, poi ha deciso di fare il portiere ma anche come attaccante avrebbe fatto benissimo. Era partito con 60 gol in un campionato, l'anno dopo in una quarantina e poi andando nella Juniores, cambiando allenatore, ha deciso di fare il portiere e ha fatto questa carriera. Per me avrebbe fatto anche la carriera da attaccante. Le doti ce le aveva. Questa è la foto che hai postato. Diciamo che è il biondino a sinistra. Beppe Signori. Ecco, magari molti non lo sanno. Sì, Beppe Signori è arrivato quando Gianluca è arrivato nel secondo anno del calcio alle F. Luca è partito quell'anno che sono partito io, Mignani, Bonazzi, c'era anche Luca che veniva dall'olatorio europea. Adesso è quando cominciano ad arrivare un po' di messaggi e adesso la fortuna di Beppe Signori è che Luca ha deciso di fare il portiere. Esatto. No, ma sarebbe stata una bella coppia insieme. Sì, era una bella coppia. Uno fisico e uno... Era una coppia assortita, come si dice, degli attaccanti. Era una coppia assortita perfetta. E' quello che si vede a Beppe Signori. No, prima Roberto Radici ha parlato proprio degli amichevoli dell'Atalanta in chiusura. Mancherà anche durante gli amichevoli dell'Atalanta. Volevo appunto ricordare che, insomma, la sua convocazione è nata proprio qui, nei nostri studi. Arnaldo è nata qui. Luca si sedeva sempre al posto di Paolo Piccinelli e c'era Roberto Radici che da sempre commentava la prima puntata di Potadea. E lì, dicendo, e confidando insomma la mancanza di un portiere nell'amichevole che si doveva sempre organizzare per l'Atalanta, insomma, è arrivata anche questa convocazione a sorpresa per Luca che, insomma, l'ha buttata lì per scherzo, ma neanche troppo per scherzo. Ci credeva, anti, voleva giocarla poi questa partita. Ed ecco qui che poi si è trovato a giocare allo stadio di Bergamo durante la presentazione e ha fatto delle super paratone sotto la nord. Da lì, dal 2017 fino allo scorso anno, fino al 2022, poi ha sempre giocato nella rappresentativa valli bergamasche, facendo davvero delle ottime prestazioni. Anzi, Atebor, proprio lo scorso anno, lo fermò al termine della partita e gli fece i complimenti proprio per le sue parate, nonostante l'età consentita. Insomma, a 55 anni faceva ancora delle gran parate, lo abbiamo assolutamente commentato. Guardate qui che roba. Ci sono, immagino, i portieri del nostro calcio dilettantistico che non solo che devono prendere esempio da alcune parate, nonostante io non sia un tecnico, ma insomma posso solo commentare quello che vedo. e queste sono appunto le immagini di questa prima partita che lui giocò con la rappresentativa valli bergamasche e lui si mise proprio sotto la nord in questo primo tempo e fece 45 minuti straordinari tra gli applausi increduli anche del pubblico nero-azzurro, quindi insomma da lì inizio alla sua scalata anche in questa formazione. Eh sì, sì, prima quando ci siamo visti noi hai detto una cosa importante perché lui era spavaldo e dunque per un portiere essere spavaldo vuol dire non senti la pressione della porta. Eh, Luca era Luca. Al di là del fisico, al di là della bravura, eh. Ma anche da piccolo era così, era un trasignatore del gruppo, era il più allegro di tutti. Era Luca Carminati, come l'abbiamo conosciuto da grande e anche da piccolo. è arrivato all'elfe con la spavalderia. Ah, perché è stato anche piccolo? È stato anche piccolo, Luca. È piccolo di età, diciamo, come al tetto. Ha giocato da putta perché era il più grande di tutti. Era abbastanza mettergli la palla lunga e lui andava a prendere, andava in porta. Poi ha fatto questa scelta cambiando allenatore, forse anche perché gran voglia di fare allenamento non ce l'aveva. Fare il portiere ha limitato un po' le corse, un po' di fatica. Però Luca, per me, è stato troppo importante. Sapete cosa mi colpisce di questa puntata? Che nonostante tutto, quando parliamo di Luca, ci nasce spontaneo il sorriso. E questo credo che comunque sia un bel filo conduttore. Lo vediamo qui, anche a fianco a noi. E lì che controlla Paolo. E lì è ancora come un goffetto, come un goffetto che sfoglia il giornale, come abbiamo visto anche nella tua clip iniziale, Arnaldo, del quale ti faccio i complimenti in nome di tutti, perché è stato un servizio e una clip che ha mandato in onda il telegiornale di Antena 2, ma chiaramente è stata l'apertura anche di tempi supplementari questa sera. È stata davvero... Sono state parole che sono arrivate dal cuore. È stato un servizio che è arrivato così, spontaneo, e proprio da questa spontaneità che poi ne abbiamo ricavato tutti tanto. Sì, come siamo vicini alla pubblicità, poi facciamo parlare anche tutti, sia Paolo, Stefano, Giorgio. Dico solo che ci siamo sentiti tante volte, io, Giorgio, in questi tre giorni. Ho detto, Giorgio, non mi passa. Giorgio diceva, non mi passa. Mi sembrava impossibile. Ho capito che viviamo lunedì sempre insieme a Luca. Ho capito. Però non è che poi ci frequentiamo tutti i giorni, io e Luca. Ma non mi passava. Sembrava, non lo so, sembra che non ci sia più una persona troppo vicina a me o il mio fratello e il compagno di Vali. Dunque non mi passava. Non so quando mi passerà. Fermiamoci un attimino, poi torniamo noi a parlare tutti. Eccoci di nuovo in onda con questa puntata speciale di Tempi Supplementari dedicata prima di tutto al nostro compagno, al nostro compagno di squadra Luca Carminati che come sapete abbiamo ricordato ci ha lasciato venerdì, nella tarda serata di venerdì per un brutto male. Dobbiamo dirlo chiaramente per dovere di cronaca. Giovedì alle ore 15 nella parrocchiale di Ipei, alla sua città natale, ci terranno i funerali. I funerali che andranno un po' a chiudere una settimana a lui dedicata, ma Antenna 2 chiaramente dedicherà tutte le puntate di Tempi Supplementari che continueremo a fare proprio al nostro portierone che sarà sempre qui con noi. Abbiamo qui la sua maglia che ci è stata donata e rimarrà sempre qui nel nostro studio. Si uniscono al nostro ricordo anche tanti telespettatori, a Nardo, lo dico anche a tutti i nostri ospiti qui in studio, anche al nostro Paolo e Stefano che fanno parte poi della squadra. Il numero lo vedete in sovrappressione. Il nostro Felix, come sempre puntuali, l'ha messo, ma insomma arrivano messaggi di condoglianze per la famiglia, ma anche al team di Antenna 2 da parte di Alberto da Pisoni che dice grande perdita, giusto dedicargli questa puntata. Ciao portierone. Ma poi arriva anche le condoglianze da Giorgio Parma e poi arriva questo messaggio. Ciao amico mio, il destino ti ha portato via troppo presto, ma come dicevi tu è rigore tutta la vita, io ti ricorderò per tutta la vita. Giussani. Insomma, arrivano tanti messaggi. Le ragazze del calcio femminile. Arrivano anche le ragazze del calcio femminile. Anzi, Arnaldo, apriamo subito questo capitolo perché hanno voluto mandare questo pomeriggio questo messaggio. Ciao Luca, insieme siamo cresciute come squadra, amici e gruppo. Grazie alla tua tenacia, alla tua testardaggine hai creato qualcosa di irripetibile a livello di risultati e gruppo. L'anno scorso ci siamo rivisti con la convinzione di continuare il rapporto che ci legava. Invece questa volta ci hai fregato, hai voluto fare di testa tua. Non ti dimenticheremo mai, mister, e soprattutto amico. Ciao Luca. Ne arriva subito un altro in questo momento. La Vireshit si unisce al cordoglio per la scomparso. Ciao Luca. Sono davvero tanti i messaggi che arrivano, li leggeremo chiaramente con piacere per ricordare il nostro porterone, il nostro compagno di squadra. Ma io, Arnaldo, so che Paolo voleva dedicare qualche minuto a Luca. Un ricordo personale. Io partirei adesso da loro. Io lo conoscevo anche da calciatore perché la sua fama lo precedeva. L'ho conosciuto di persona quando lavoravo in un altro emittente a Teleboario, avevo l'onore di condurre una trasmissione sportiva e in quella edizione il conduttore era da solo e invitava un ospite. Spesso invitavo dei calciatori ed erano puntate difficili perché il calciatore mediamente dice il minimo indispensabile, non conosce le altre categorie. Quella volta che ho invitato Luca siamo andati veramente in carrozzo e lui è arrivato e conduceva lui praticamente. Cioè sapeva tutto di tutti ed è stata una puntata meravigliosa. Siamo andati subito in sintonia. Aveva i tempi televisivi, aveva la voce, aveva la presenza. Ho detto Luca scusami ma io ti chiamerò spesso. Vai tranquillo Paolino. Mi chiamavo Paolino la prima volta che ci siamo conosciuti. E poi è nata anche la collaborazione come opinionisti in vari emittenti. L'ho avuto accanto per sette anni. Devo dire la gente a casa non lo sa ma i fuori onda qua erano spettacolari. Il nostro regista Feli si impazziva per lui fino a un secondo prima che si andasse in onda aveva il telefonino scovava dei video io non so quando li prendeva ridevamo tutti come dei pazzi ed era impressionante. Ricorderò con piacere anche i battibecchi con anzi le punzecchiature con Stefano su Appiani il Pellegris eccetera eccetera. Ricordo anche molto volentieri quando Arnaldo lanciava le sue interviste e Luca prendeva le sue cose andava via diceva vado a bere il caffè poi ritorno. Le mie interviste lunghe perché doveva essere lui a parlare. Doveva essere lui io non so se ci rincontreremo ancora perché non ho la fortuna di avere quella fede lì però sono contento di averlo incontrato e di aver vissuto con lui insomma un po' di anni dispensieratezza pura perché parlavamo di calcio e non solo di calcio ovviamente però sempre in maniera molto leggera. Ma era rigore? Tutta la vita parlava della maresana la blasfemia cioè ci sono dei tormentoni che secondo me sono proprio sì Giorgio era molto televisivo e sai mi fa piacere anche ho avuto tante telefonate tra sabato e domenica io non sono riuscito a fare niente ma sono contento o no perché per quello che è successo ma le testimonianze mi hanno reso mi hanno fatto piangere un po' di meno se vogliamo le testimonianze perché Luca come diceva Paolo era così era uno spettacolo tu lo chiamavi veniva a Boario cioè era uno spettacolo poi i tempi televisivi era fatto era fatto per quello anche se per me era un direttore sportivo nato l'avrei visto bene sì sì l'avrei visto bene guarda io ho dei bei ricordi di Luca anche se inizialmente il nostro rapporto nasce perché lui vinceva tutti i tornei che c'erano in giro e allora ci hanno rotto le scatole e allora ci siamo fatti un po' la guerra un po' di anni tant'è vero che è stato il primo a portare i brasiliani del calcetto a 5 al torneo di Gandino era una cosa mai vista c'era Marcio Torres è stato il primo tramite lui si è riusciti a portare i brasiliani ci siamo fatti la guerra un po' di anni poi siamo diventati amici fondamentalmente mi difendeva sempre dal baffo e da Paolo quando mi attaccavano con la gandinese che non riuscivo a vincere tant'è che ricordiamo veramente veramente l'anno scorso quando ho portato l'accappatoio in studio per farglielo mettere fantastico che è stata una cosa bellissima dai che ci abbiamo riso su ho detto dai Luca non farai da pianico a Gandino nudo è meglio che ti prendiamo l'accappatoio l'accappatoio personalizzato è questo e poi dai c'è stato fondamentalmente io con Luca ho fatto il suo uno degli ultimi viaggi siamo stati a Roma un mese fa siamo stati a Roma a vedere che era tempo che dicevamo che volevamo andare a vedere la Roma femminile la prima volta all'Olimpico la Serturini è già cinta grazie grazie alla Anna Serturini ci ha invitato all'Olimpico c'era Luca era contentissimo siamo partiti in treno la mattina e non ci credo Arnaldo come ti ho scritto a te ieri in questi giorni ci siamo sentiti un mese fa eravamo a Roma insieme e adesso non c'è più questa cosa qua mi lascia mi lascia basito la notte mi sono svegliato a guardare se effettivamente mi ero sognato che ci eravamo sentiti c'erano i messaggi che dicevano questo e quindi ci troviamo un po' tutti un po' però dai come avrebbe voluto lui dai vieni su in questa benedetta prima categoria e festeggiamo tutti insieme me l'ha detto ancora anche due anni fa neanche a farlo apposta ieri la Gandinese ha messo un piede e mezzo per salire in prima perché i suoi play-off sono stati la Falco l'altra squadra nero-azzura che lui Savio è qua ma lui la Falco le squadre della Val Seriana ha vinto il campionato sembra neanche a farlo apposta l'Inter ha battuto la Lazio la rivaltata e a tal proposito Anna Serturini e la Giacinti ieri hanno vinto il primo storico scudetto al femminile infatti mi ha chiamato ieri la Serturini mi ha detto non ci credo era qua con noi in hotel che è passata a trovarci la mattina ci ha dato i biglietti per andare allo stadio e tutto anche lei è basita da sta cosa e anche lei porta le condolianze alla famiglia quante si combinano Stefano poi andiamo da Gigi poi lanciamo ancora dei ricordi come tutti sono rimasto anche io incredulo perché è stata veramente tutto troppo rapido l'abbiamo letto prima abbiamo scherzato tanto in trasmissione abbiamo discusso tante volte ci siamo punzecchiati tantissimo ma baffo connessa mia del balù ed era secondo me siamo divertiti tanto e ci sono divertiti tanto anche a casa a vederci già nelle ultime puntate in cui non c'era mancava glielo ho scritto l'ultima volta che l'ho sentito sabato scorso e sicuramente sicuramente mancherà mancherà a tutti una cosa che mi ha colpito in questi giorni le chiamate i messaggi che arrivavano facevano le condolianze come se fosse uno di famiglia davvero nonostante poi la gente tanta gente lo conoscesse solo dietro uno schermo io penso che lui dall'alto guardando giù ieri abbia sorriso perché davvero il nostro calcio lo ha salutato con tanto tanto affetto mentre lo ricordiamo gli chiedo a Ferri di mandare Ferri tanto gli ribalto sempre a scaletta ma lui è contento così ha tutte le immagini e testimonianze dei campi di calcio ieri abbiamo raccolto quei 5, 6, 7 campi di calcio dove c'erano le telecamere perché poi sono state tante anche da altre parti però con le telecamere c'erano qua ovviamente partiamo da Brusaporto Brusaporto Gandinese maglia bianca lutto al braccio la tua formazione Giorgio per aver giocato apposta con le maglie bianche perché se giocavamo con le maglie rossonere non si vedeva e ci tenevamo in modo particolare poi lui guai di lì rossonero no? no guai da tutti noi dal nostro presidente a Torre del Rovere ci tenevano in modo particolare qua siamo a Torre del Rovere poi gireremo su altri campi su Marovetta Casnigo il video sempre il portiere del Torre del Rovere ma detto che Gigi ha avuto un grande merito nel riuscire a sbloccare questa cosa che insomma richiede una certa tipistica una società la Falco ha mandato un messaggio da chiedere al consigliere regionale Bellani da lì e si è mosso tutto almeno sulle squadre bergamasche e specialmente le squadre la Varseriana abbiamo fatto il mito di raccoglimento non era facile però grazie a Pedrazzini e a Bellani siamo riusciti a ottenere questo dalla federazione Casazza una sua ex squadra insomma noi Giorgio promettiamo mentre parliamo che riuscichiamo a organizzare qualcosa adesso non so con il memoria Pezzoli se riusciremo a inserire qualcosa fra poco c'è il memoria Pezzoli Bell'Effe e lui tocca lì l'Effe qua siamo a Pianico o meglio a Dalmine per Dalmine Pianico a sovra Magrini che fa il segno della croce dopo aver depositato la maglia perché per Luca Calminati Magrini era ma lo stesso Speroni cioè i stessi portieri anche il portiere della Gavarnese stesso insomma mi piacerebbe ricordare l'ottolano con un quadrangolare delle sue squadre cerchiamo a farlo non so come sia facile non sono capace ma Antena 2 sarà in qualche modo faremo il campo di Gandino è disponibilissimo a questa roba qua perché ci teniamo in modo particolare rovetta qua il minuto di silenzio e ovvio tanti ricordi qua la fine di Savi insomma perché con la maglia numero 1 che è stata quella di Calminati perché io non so quante volte Gigi ha messo il 12 Calminati lo sa cos'è il 12 io non l'ho mai visto col 12 lo sa cos'è il 12 se lo prendevo andavo a casa peggio nelle mie interviste sai tante volte Paolo ci ricordava anche l'ultimo anno a Clusione quando stai noi dicevamo sempre che i giocatori pericolosi eccetera eccetera l'ultimo anno a Clusione quando lui in un play out alcuni magari sai era già ormai alla fine se voleva esatto mentre però un rigore salvò salvò Clusione che poi l'anno va a partire senza ormai Luca aveva smesso i guanti eccetera eccetera dunque all'importanza che lui quando andava in campo diceva noi faccio bella figura io fa bella figura la squadra nonostante sia stato un bel personaggio lui Carminati a Casazza e come ha detto Gigi era sempre un trascinatore infatti a Casazza Cambiani che più volte l'ho sentito e più volte è stato male un saluto di Federico Vedovati ha voluto lanciare anche lui il nostro Federico Vedovati visto che nella squadra anche il buon fede prima della partita di Dalmino poi diremmo servizio a partita Dalmino e Pianico ma prima ha voluto ricordare anche lui il buon Luca Carminati Durante quella lunga e tortuosa strada che prende il nome di vita molte volte ci si dimentica del privilegio che è poterla condire con le nostre passioni le nostre conquiste i nostri legami ed ovviamente con i nostri problemi ci si ricorda solamente in alcune occasioni di quanto possa essere fragile e caduca la nostra esistenza questo non è un male la fragilità del cristallo non è una debolezza bensì una raffinatezza non diamo mai nulla per scontato ci manchi Luca ci mancherà i carmi è vero sì ci mancherà tantissimo messaggi andiamo a leggere anche alcuni messaggi perché Arnaldo c'è qualcuno che ha voluto proprio anche condividere le proprie foto con Luca e c'è Luca Baratelli che appunto scrive ciao Luca un abbraccio fin lassù con la loro foto insieme proprio qui nei nostri studi ad Antenna 2 c'è anche l'US Calcio San Pellegrino che si unisce è vicino per la perdita di Luca ma poi c'è ciao Luca ci hai lasciato troppo presto la società Falco Albino ti dedica la vittoria del nostro campionato e ti ricorderà per sempre lo sentiremo anche da Sadi insomma io lasciami ringraziare veramente tutte le società tante anche sulle che non avrei mai pensato ma ci fa piacere come ho detto nel mio messaggio Luca noi eravamo sempre incerti ma siamo arrivati nel cuore di tante società non solo la Val Seriana ma anche in Bergamo comunque ci fa piacere Andrea Foresta il direttore generale Breno dalla Val Camonica sono arrivate tutte queste testimonianze di condoglianze Antenna 2 perché vediamo che la sua famiglia era come ha scritto bene anche il cuore di Bergamo oggi la sua seconda famiglia era Antenna 2 dunque era sempre qua con noi dunque noi eravamo per lui era importante noi come per noi era purtroppo importante lui però c'è un ricordo prima di andare in pubblicità un altro molto particolare non è di noi non è la nostra squadra però è stata anche lei una condottrice per un po' di anni insieme a Luca Carminati e mi fa io non posso venire perché se vuoi vedere piangere in diretta fammi venire che piango in diretta però voglio mandare questo ricordo di Luca Carminati perché erano legati allora dopo gli sette anni che era con noi ma sono sempre stati legati tramite i messaggi il messaggio che arriva dall'ex conduttrice di Epivali TV di Zona Totale a Federica Bonetti la vita scorre ed improvviso tutto si ferma ed accade che sia davvero difficile provare a mettere in fila i pensieri e trovare le parole per tutti noi è il tempo di un dolore sconfinato e chi l'avrebbe mai immaginato Luca eccoti qui poco più di un mese fa in quella che ora sappiamo essere stata la tua ultima volta in tv a punzicchiare l'amico Arnaldo e a discettare di calcio il tuo pane quotidiano Luca Carminati Portiere Luca Allenatore delle squadre femminili Luca Opinionista TV Luca Tennista Luca Collega Luca Amico in questo servizio che mai avrei immaginato di dover scrivere nella vita lasciami dire chi eri perché dietro l'omone dagli immancabili occhiali da sole a goccia e dalle spalle larghe si celava un uomo di grande sensibilità ed empatia Luca non esiste un ricordo di te che non ti ritragga adornato di un sorriso o nel bel mezzo di una risata tanto rumorosa quanto contagiosa vorrei raccontarvi di Luca con le sue tre più grandi passioni la prima ben nota a tutti il calcio vissuto da protagonista con i guantoni poi il calcio raccontato in tv in veste di preparato ed ironico opinionista con lo sport hai tessuto legami ed amicizie indissolubili ne sono la testimonianza i tanti attestati di affetto e di cordoglio che descrivono senza bugie l'uomo che eri un'anima bella e sensibile e per questo Luca non si poteva non volerti bene e poi c'è l'ultima grande passione in ordine di tempo le carte da gioco che ti facevano macinare chilometri e chilometri nei weekend verso i più illustri tornei di burraco e neanche a dirlo Luca hai saputo brillare anche sul tavolo da gioco conquistando il titolo di campione italiano ed anche lì stringendo nuove amicizie Luca avremmo voluto ripararti da questo dolore e parare con i tuoi stessi guantoni la malattia rivelatasi troppo fulminea ma anche questa volta i guantoni li hai voluti indossare tu stringendoteli forti ai polsi per l'ultima volta con tutta la tua forza per riparare la tua famiglia e i tuoi amici risparmiando anche a tutti noi qualche settimana di preoccupazione e di dolore un faccia a faccia con la malattia che hai voluto affrontare da solo silente e composto nella riservatezza tipica dei soli grandi uomini te ne sei andato così Luca leggero ed in punta di piedi sei e sarai libero portiere tra le stelle guardiano del cielo io ti immagino così a guardare il tramonto con la tua amata mamma in attesa di una nuova partita di burraco lì in riva al mare da sempre la tua meta del cuore sorridente davanti a un piatto di spaghetti con le arselle e ascoltando Billie Jean da sempre una delle tue canzoni preferite grazie Luca grazie per questi bellissimi anni trascorsi insieme grazie per la tua amicizia sarà impossibile dimenticarti sarà impossibile non soffrire ogni volta nel tuo ricordo insomma sta diventando sempre più difficile e lasciamo dire ha nombrato Luca Carminati mi ha fatto sentire dentro ringrazio la Federica per la sua testimonianza andiamo a pubblicità siamo ancora in onda tempi supplementari speciale dedicato al nostro amico e compagno di viaggio Luca Carminati sono tanti i messaggi che arrivano iniziamo sempre da qui perché è bello ricordarlo e dare spazio anche utilizzare questa vetrina per ricordare un amico davvero speciale e prima di tutti gli altri messaggi che lo vogliono ricordare c'è il messaggio del fratello Giampiero che ringrazio anche che ci sta seguendo io e la mia famiglia vi ringraziamo di cuore per quanto state facendo per ricordare il nostro caro Luca grazie grazie noi lo diciamo chiaramente a loro siamo vicini alla perdita del loro grande fratello noi l'abbiamo l'abbiamo riconosciuto come la nostra noi eravamo la loro seconda famiglia ma loro sono effettivamente gli affetti familiari chi se lo godeva davvero ogni minuto noi ci vedevamo lunedì o per parlare di pallone che poi era quello che ci piaceva fare però chiaramente le condoglianze l'abbraccio forte va a tutti loro ma andiamo avanti perché l'abbraccio arriva anche da Casazza da Claudio di Casazza che dice un abbraccio a tutti voi per questo d'orreo e mezzo forza ragazzi Luca sarà sempre con voi e poi arriva un messaggio da Rovetta da Marco Migliorati che è sempre stato l'assessore allo sport ai tempi del ritiro dell'Atalanta ora è ancora assessore fa parte dell'amministrazione comunale e dice ho potuto conoscerlo a Potadea qualche anno fa nei ritiri di Rovetta e poi seguirlo a tempi supplementari mandandogli dei messaggi ironici che lui leggeva sempre con risorriso un ricordo speciale a Luca in un abbraccio a tutta la vostra squadra di tempi supplementari insomma vero sono tanti anzi se volete davvero condividere quello che è il vostro messaggio il vostro ricordo di Luca lo potete fare via Whatsapp noi li leggeremo chiaramente qui in diretta nel corso di questa lunga diretta che chiaramente parlerà anche di calcio di calcio giocato non lo so quanto parleremo di calcio perché andiamo avanti ci proveremo andiamo avanti col buon Luca fino a quando riusciamo non vogliamo neanche stancare troppo a casa neanche diventare troppo patetici però questa sera ecco sì noi stiamo parlando dal cuore io sto parlando dal cuore mi vengono tante cose e vorrei lanciare avremo poi un alledito piccolino fra poco ma prima lancio Savi che si è messo ieri la maglietta nero azzurra perché il Carmi ogni tanto lo prendeva quando lo vedeva al telecamera ma lui Savi l'ha voluto ricordare così un po' anche a nome della Falco sentiamo finalmente dal cielo mi vedi mi vedi con colori nero azzurri sicuramente ti farà piacere grande Luca grazie di tutto questa mitola la dedichiamo assolutamente a te grande Luca questa viene dalla Falco viene da Savi viene anche dal nome della Falco che ha già scritto che poi vedremo ci sarà anche la festa della Falco poi c'è quello che nel calcio hanno vinto il campionato l'aneddoto Elisa insieme a Matteo insieme al suo mister Bonaldi lo storico mister dove c'è lui lanciamolo vai guardatelo stasera in Atalanta in campo vai vai firma il mister con affetto guarda che sotto c'era il rinnovo del contratto c'era il rinnovo del contratto con il Bergen Soccer Team chiaramente questa era dopo la partita con l'Atalanta giocata a luglio dopo le sue super paratone chiaramente è arrivato subito il rinnovo del contratto e questo era l'autografo finale la dedica finale di questa giornata così speciale proprio qui nel campo di Clusone è così è bello è bello ricordarlo anche così sorridente con queste battute è bello ricordarlo sul campo è bello ricordarlo anche parlare di Serie A perché non dimentichiamoci che insomma io non so Paolo come la metterà quella andata di Champions di semifinare di Champions League eravamo anche un gruppo io della Juve Atalanta Paolo del Milan Stefano dell'Inter ma odiava è amante dell'allenatore che non era amante del Carmi cioè era uno spettacolo ma fatemi capire Simone Indaghi come va sulla no, Simone Indaghi era neutro ancora era ancora neutro era su Conte proprio sì, sì era su Conte infatti volevamo inventare anche una trasmissione sulla Serie A qua quattro totalmente diversi mi immagino le scannate che ci facevamo Gigi un aneddoto dai qualcosa è difficile trovare qualcosa che non ci hai raccontato ancora o qualcosa che non parlavate te Luca parlavamo di calcio soprattutto di calcio eravamo tifosi più o meno le stesse cose noi ci ricordavamo dei campioni passati all'Effe lui poteva essere uno di questi ha preferito anche studiare però c'è da dire che è anche studiato era uno dei pochi che andava a scuola in quei tempi Luca ci teneva alla scuola anche spronato dal papà è stato così sicuramente all'inizio della costruzione del settore giovanile dell'Effe è stato il ragazzo più allegro di tutti uno che ha preso subito a cuore la crescita di questa società partiva da quegli anni il settore giovanile che ci ha portato a vincere due titoli italiani professionisti lui è stato uno degli artefici e lo ricordiamo un po' tutti signori di sicuro lo ricorda il papà mi ha chiamato era un personaggio lo avevo sempre definito un personaggio era proprio un personaggio per la televisione Paolo anche su un campo anche nei lamenti c'era no ma dico anche dopo ma anche perché poi sì televisione possiamo andare tutti ci mancherebbe ma c'è chi è previsposto lui era nato per essere per essere televisivo cioè io credo che sarebbe stato in grado di parlare di qualunque argomento anche di non so la coltivazione dei cavoli lui avrebbe trovato il modo di di venissene fuori perché aveva una 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 fisicità e un rapporto con lo schermo che era straordinario abbiamo avuto abbiamo visto la foto con Atebor che si è complimentato con lui a fine partita eccola qua gli aveva parato davvero l'impossibile Atebor non riuscì a segnare nemmeno della partita gli avrà detto tassemi a butte esatto tanta corsa ma poi alla fine questo è insomma salutano Luca anche gli ultras della Nossese quindi insomma prima ne abbiamo parlato i suoi inizi proprio con la Nossese è arrivato un messaggio proprio anche anche da loro in questi giorni ho voluto avvisare due amici speciali di Luca che ha conosciuto e incontrato durante il periodo che loro insomma erano l'Atalanta vale a dire Riccardo Zampagna e Stefano Colantuono Riccardo Zampagna farà di tutto per essere giovedì presente a Peia parte da Terni insomma ha quasi confermato appunto la sua presenza Stefano Colantuono a capo del settore giovanile della Serenitana non potrà essere presente ma vuole assolutamente venire non appena è concluso il campionato a trovare a vedere Luca almeno al cimitero quindi insomma sono tanti gli amici speciali anche tra i grandi se possiamo dire del calcio quindi chi ha giocato in Serie A ha fatto il mistere ancora calca questi palcoscenici quindi insomma abbiamo raccontato questo amore se così possiamo definirlo questo anche virgolettato proprio nei confronti di Luca a 360 gradi proprio per questo sorriso per questa voglia anche di mettersi in mostra che a noi piaceva tanto il suo essere televisivo insomma lascimi dire perché giovedì abbiamo detto alle ore 15 qui è arrivato un accappatoio nel frattempo è arrivato un accappatoio questo è il ricordo che avevamo con Paolo e Stefano che avevo deciso per non farlo scendere da nudo da pianico allora almeno si copriva meglio me lo consenti Arnaldo è arrivato un messaggio che dice Luca è stata la mia chioccia quando eravamo compagni di squadra nella Delbrese in promozione stagioni 96 97 97 98 io appena 20enne sempre disponibile e mi ricordo che mi voleva giocare a Briscolone con lui e gli anziani del gruppo nei ritiri e nelle serate dopo gli allenamenti non ti dimenticherò mai non dimenticherò mai quegli anni bei ricordi Aldo Pazzone da Albino beh ricordo si mi ricordo abbiamo detto giovedì alle 15 i funerali allora per la gente perché tanta gente quando arriva quando arriva in teoria da quello che sappiamo noi anche dalla famiglia mercoledì fino alle 12 no è meglio non essere lì vicino dal pomeriggio in poi di mercoledì potete andare a fare un saluto chi non riuscirà a essere magari funerali che vogliono tanti magari esserci lì portare l'ultimo saluto a buon Luca per noi sarà a fianco alla parrocchiale c'è una piccola stanta una sorta di sala del comiato dove lì sarà deposto Luca e sarà possibile far visita è chiaro che sperando riesca ad accogliere davvero tutti perché credo che siano tanti gli attestati di stima che in questi due giorni poi si si presenteranno nei confronti della famiglia proprio in quel di Peia lui adesso direbbe vai col balù io penso che lui lui direbbe ma Arna io non ero Arnaldo era Arni o Arna vai col balù adesso mia mentre manda le foto il buon Felice dalla regia sì andiamo col calcio difficile passare ma anche perché l'abbiamo fatta mi è piaciuta stasera io ho paura di io e Giorgio ci guardavamo partiamo prima o poi ma abbiamo fatto col sorriso del buon Luca resta sempre questo sorriso di Luca in parte a noi questa è la foto dell'ecclusione quando dicevamo con Seghezzi allenatore adesso della città di Clusione invece lì era giocatore Polo Altamore allenatore lui se le ricorda bene queste formazioni quando aveva giocato qua a Clusione e dunque io partiamo un po' con la serie D anche perché tante squadre della serie D hanno voluto ricordare la Vitus Bergamo dal Breno hanno voluto ricordare il buon Luca Carminati e partiamo con la serie con i risultati magari Paolo grafica risultati adesso andiamo un po' a fare un po' di cronaca dai in serie D mancavano 180 minuti con ancora diversi verdetti da definire il verdetto più importante è quello che riguarda la vittoria del campionato e anche ieri dopo 90 minuti l'esito non c'è ancora Lumezzani ha vinto la sua gara con la Caronnese l'Alcione che insegue a tre punti ha vinto con l'Arconatese quindi il divario di tre punti rimane è ovvio che domenica prossima giocando a Varese Lumezzani ha bisogno di un solo punto per ottenere la matematica vittoria di questo campionato che sarebbe probabilmente più sofferto di quanto in realtà si aspettavano in zona playoff irrompe il Desenzano che vince ieri una partita importante a Venegono superiore contro la Varesina e approfitta del pareggi di Franciacorta e Porto San Pietro proprio per agganciare l'ultimo posto utile per i playoff ma è nei playoff che secondo me c'è la bagarre più interessante perché a parte Sone e Caronese che sono già retrocesse ci sono come vedete il Città di Varese a 33 e tre squadre a 36 e due a 38 fino al Seregno sono tutte coinvolte in questa bagarre e fra una settimana sapremo è che quelle due a 38 sono quelle che rischiano di più vedendo l'avversario in teoria sulla carta esatto il Villavalle affronta l'Alcione e il Seregno affronta il Desenzano due squadre che hanno dimostrato che insomma hanno ancora molto da chiedere a questo campionato forti e hanno obiettivi ieri la Real Calepina secondo me ha buttato al vento una grande opportunità affrontava il Sona già retrocessa e in caso di vittoria si sarebbe posizionata a 38 punti mettendo un tassello importante per la salvezza diretta invece hanno pareggiato e come vedete dalla classifica la loro situazione è ancora complicata bene il Breno che soffre tantissimo forse anche di più di quanto fosse lecito attendersi in casa del Seregno ma vince grazie a un gol di arma che guarda caso rientra dalla squalifica e segna un gol importante per cui direi che saranno 90 minuti veramente molto intensi giro gol poi andiamo a pubblicità facciamo giro gol non li abbiamo tutti perché alcune società purtroppo non fanno le immagini però commenteremo quello che c'è qui sono le immagini appunto del Lumezzane che affrontava l'ultima della classe c'era una marea di punti di differenza però in campo la Caronese si è fatta come sempre onore tant'è che il gol che sblocca la partita arriva al 41esimo del primo tempo questo calcio di rigore nettissimo Mauri se lo procura e va a calciarlo direttamente ecco qua la realizzazione e dall'abbraccio dei suoi compagni si capisce insomma quanto fosse importante sbloccare questa partita e quanto comincia a diventare pesante avere l'alcione che ti alita sul collo da diverse partite Poledri nel secondo tempo aggancia questo palone al limite dell'aria e fulmina il portiere per il 2 a 0 che mette diciamo in tranquillità il pubblico numerosissimo del Saleri che ovviamente non vede l'ora di festeggiare questa vittoria alcione permettendo questa non è nebbia ma sono i fumogeni siamo a Venegono superiore Desenzano in maglia bianca passa in vantaggio grazie ad Al Borghetti che ormai è diventato uno dei bomber della squadra quindi il vantaggio per una rete a 0 arriverà anche il 2 a 0 su questa azione molto bella e c'è la conclusione dal limite di Cattaneo quanta roba questa azione eh sì con il portiere che però Carmi avrebbe detto ma insomma è partito in Italia avrebbe fatto la sua disamina tecnica se non è di perfetto un porto è rimorto anche qua il portiere non prova neanche a tuffarsi è il gol di Tedesco che accorcia le distanze ma insomma alla fine Desenzano porta a casa i tre punti e continua il suo sogno playoff il Ponte San Pietro impatta 2 a 2 in casa della Caratese subendo il primo gol di Valsecchi dopo 9 minuti circa un gol secondo me evitabile però insomma era una gara indolore per il Ponte San Pietro che però pareggia due minuti più tardi grazie a Ruggeri che ormai segna credo da 3-4 partite consecutivamente è ancora il Ponte San Pietro a passare in vantaggio questa bella azione con il colpo diciamo a centro area bellissimo adesso non ricordo chi è il marcatore però è un gol importante arriverà il pareggio di Gualdi piuttosto fortuito perché c'è il portiere che fa insomma un'uscita abbastanza zardata e qui insomma vedo che anche Gigi ecco fa capire che si poteva fare Gigi vogliamo il tuo commento dopo che ti sei messo le mani nei capelli era la serata di Luca esatto guardiamo questo gol bellissimo di Caraffa riceve a palla da un compagno contro la di destro e di sinistro voluto un pallonetto di una morbidezza fantastica e realizza il gol vale poco da un punto di vista della classifica però insomma era un derby importante e quindi la vittoria è arrivata grazie a lui e appunto questo vale tanto a realizzare il gol della vittoria siamo al nono minuto è un gol strano perché l'arma colpisce dal vertice sinistro dell'area dell'area piccola la palla rimbalza sul pallo il portiere non riesce a intercettarla sarà un secondo tempo di sofferenza inaudita per il Breno ma alla fine la vittoria riesce a portarla a casa quindi potrà continuare a sperare addirittura ancora nella salvezza diretta anche se è molto molto difficile qui il Sonia in maglia bianca passa in vantaggio in questo tap-in ravvicinato di Coulibaly e la Real Caletina paga d'azio ad un inizio abbastanza come dire in colore e poi German Denis di testa prima che finisca il primo tempo realizza il gol del pareggio peccato perché la Real Caletina con questa vittoria come ho detto prima potrebbe vedere nei prossimi 90 minuti una prospettiva diversa sono curioso vedere l'ultima tornata come sarà ci fermiamo andiamo in un break e poi entriamo ancora con il calciocato se volete mandare i messaggi i ricordi per Luca noi continuiamo a leggere anche ci siamo fermati i ricordi di Luca sempre con noi è lì guarda Paolo e lì dice Paolo diamo pubblicità dai andiamo beh rientriamo in diretta andiamo con alcuni servizi per quanto riguarda la Serie D abbiamo visto tutti i gol adesso tre partite magari se siamo utilizzati a più tante Paolo ma stasera è una puntata eccezionale vedremo le partite forse che c'entra qualcosa Lumezzane che ha battuto il servizio di Paolo Zerbi vedremo un po' il derby Virtus e Bergamo pur sopporto che è stata una partita non c'era più pressione dunque giochiamo per far divertire il pubblico che c'era e ovviamente la vittoria del Breno Seregno magari partiamo da Lumezzane andiamo a vedere la capolista che batte nel servizio di Paolo Zerbi che batte la Caronese 2-0 ma si pensava più facile vediamo nel più classico dei testa a coda la Caronese di scena sul campo del Lumezzane primo in classifica con tre punti di vantaggio sull'alcione più di 600 persone presenti per quello che potrebbe essere già un giorno di festa ma bisognerà ancora aspettare prima occasione da parte del Lumezzane dopo un cross dalla sinistra tiro di Mauri che prova la conclusione palla a lato non di molto la Caronese non sta a guardare a subito grandi occasioni la più importante la costruisce il capitano Corno colpisce in pieno il palo col pallone deviato da Filigheddo da un corner seguente battuta rapida del calcio d'angolo e pallone che capita poi a Duguet al limite dell'area palla alta sopra la traversa sulla conclusione del Paldostano bella gara giocata a viso aperto cresce il Lumezzane col passare dei minuti ma per due volte indelicato dice no ad Alessandro prima con un tiro forte da fuori area poi sulla girata velenosa di testa del numero 10 ma alla lunga il gol arriva minuto 39 Mauri danza in area di rigore e l'intervento di Cerreto è in ritardo sul numero 17 penalti concesso dal direttore di gara il terzo consecutivo contro per la Caronnese si incarica Mauri che manda il pallone all'angolino basso là dove indelicato non può arrivare esulta il Lumezzane tutto attorno al numero 17 per il gol che permette di sbloccare la partita una rete che galvanizza ulteriormente la formazione di Arnaldo Franzini sia sul finire di primo tempo con questa occasione sventata dalla Caronnese poi anche a inizio ripresa ma il tiro di Parodi è respinto da indelicato la Caronnese ancora una volta però non vuole rimanere a guardare bella finta di corpo di corno e tiro ancora una volta del capitano che però finisce a lato minuto 22 episodio particolarmente dubbio al limite dell'area di rigore del Lumezzane Dughe punta Troiano che lo stende l'arbitro ammonisce il numero 2 del Lumezzane ma concede soltanto il calcio di punizione nonostante le proteste Rosso-Blu contato proprio al limite dell'area da fermo poi Corno si incarica della punizione ma spara alto sopra la traversa partita che di fatto resta in bilico ma nei minuti finali il Lumezzane riesce a chiuderla tiro di Parravicini respinto da un avversario palla che resta viva in area di rigore Poledri la chiama a gran voce quasi come una calamita la palla finisce al numero 23 che fa esplodere il destro che vale il 2-0 esulta il centrocampista del Lumezzane per un gol pesantissimo perché il risultato di fatto non cambierà più cala il sipario sul match la caronese dimostra di tener testo al Lumezzane che si dimostra però più forte e cinico e ora Franzini basterà un punto a Varese per tagliare per primo il traguardo Gigi con un po' di affanno ma penso che Lumezzane anche meritatamente tutto l'anno che è lì all'ultima partita all'ultima partita a Varese anche se vince fa sempre il play out nella peggior posizione penso che il pari a Varese lo porti a casa è stato un campionato tirato molto tirato ma come tutti i gironi quest'anno in Serie D basta guardare Calagiana l'ha vinto solo domenica il campionato anche lei è stata in testa per tanto tempo anche perché mi insegni Gigi l'ultima giornata al Varese qualche rifidato e qualche giocatore non in perfette condizioni dice me lo tengo per i play out non lo rischia sì penso che lì i campionati nella zona bassa della classifica se la giochi rischia un po' il Villavalle che ha un avversario difficile e se perde il Villavalle potrebbe rientrare nel play out è ancora una lotta aperta tra Real Calepina Breno Fogo e Caratese Villa Valle e Serenio Serenio va a Desenzano non sta regalando niente esatto poi possiamo dire due cose anche su Serenio poi è strano il Serenio ha preso tre punti di penalità altrimenti sarebbe salvo in settimana la Real Calepina ha fatto un ricorso perché il Serenio ha fatto giocare con Ate che non ha giocato solo quella domenica lì ma ha giocato tutte le altre partite il giudice sportivo giustamente dice un giocatore non può essere tesserato per più di tre società in stagione questo era il quarto tesseramento quindi ha fatto scattare il 3-0 a tavolino la corte d'appello federale un paio di giorni dopo ha detto no diciamo sconfessato il giudice sportivo restituendo il punto maturato sul campo io Gigi non so esattamente chi abbia ragione se il giudice sportivo magari io ho letto ho letto ritengono quelle due partite che nei professionisti li conto non sono non ha mai giocato ci sono salvati in corner anche questa volta dai mettiamola così anche perché sono rischiata di perdere 23 punti poi l'ultimo l'ultimo andavano a tirare una tiratina d'orecchia alla società perché non se ne ha corto nessuno fino ad arrivare a Real Calepina vuol dire che i regolamenti non sono proprio conosciutissimi più che regolamenti conosce il giocatore che ha scelterato tre volte perché era la Lianese la Verona ha girato tutta l'Italia è chiaro che in serie di queste cose qua non dovrebbero capitare assolutamente sono quasi professionisti ma io prima ho chiesto Paolo in pubblicità una cosa sulla Real Calepina una società che ha investito così tanto è riuscito a riportare anche German Dennis abbiamo visto il suo bel gol di testa una realtà che ha investito così tanto si trova a rischio pre-out cosa è successo? Gigi è roba tua questa? sono mancati i gol perché la Real Calepina ha pareggiato tante partite ha preso pochi gol c'era solo Dennis si non ha investito a livello di Lumezzana al Ciorno però di fare un bel centro classifica io sono convinto anche a loro il mio stesso investimento di Buso a Porto ci saranno però i campionati di Serie D sono difficili non è facile e poi c'era solo Dennis hanno trovato un altro giocatore a dicembre però ha segnato qualche gol poi però nel momento delicato del campionato sono mancati i gol alla Calepina Serenio-Breno Paolo lo vediamo poi perché Breno è ovvio importante poi era uno scontro diretto perché se Breno non si va vincente ieri Serenio si salvava invece andiamo a vedere come è andata una vittoria una vittoria una vittoria vera che ci conferma l'ottimo ritorno che abbiamo fatto con 24-25 punti dove questa squadra ha veramente svoltato mi aspettavo questa risposta dopo tre partite sotto tono o due partite e mezzo diciamo e questo è il Breno che si è ritagliato uno spazio ripeto una seconda parte della stagione importante è stata una partita vera abbiamo avuto un approccio importante dove il primo quadro siamo andati in vantaggio meritatamente perché l'abbiamo approcciata meglio di loro abbiamo avuto due o tre situazioni per far gol in una siamo andati in vantaggio abbiamo sofferto il giusto perché comunque loro hanno giocatori di valore hanno giocatori che ti riempiono l'aria hanno giocatori di grande fisicità soprattutto in ogni situazione di palinativo concedevamo parecchi centimetri però siamo venuti duri siamo stati tosti siamo stati bravi tutti siamo andati a mano siamo finiti in dieci tutti hanno cambiato qualche ruolo durante la partita ci siamo adattati a qualche sistema di gioco durante la gara che lo richiedeva questo è lo spirito di una squadra che vuole giocarsi sulle carte fino alla fine adesso sicuramente un obiettivo l'abbiamo raggiunto che è quello di regalarci sicuramente una partita in più per poter arrivare al nostro obiettivo però cerchiamo di finire bene l'ultima cerchiamo di portarla a casa e poi vediamo cosa accadrà vediamo il destino cosa vorrà però faccio i complimenti ai ragazzi oggi perché questa risposta è la risposta che mi aspettavo è una risposta di cuore di tenacia di nervi ed è quello che io volevo quindi una vittoria meritata ripeto in un ambiente in un campo difficile contro una squadra comunque che ha veramente dei valori che in effetti nel ritorno lo ha dimostrato quindi festeggiamo fino a domani e dopo niente prepariamoci all'ultima partita a cercare di fare il massimo e poi penseremo cosa dovremo fare quindi ringrazio i ragazzi veramente di cuore per la prestazione di oggi e carmi all'olio direbbe tanta roba perché ieri l'olio ha tenuto in piedi il treno di là di arma che ha segnato ma l'olio ha tenuto in piedi dopo le immagini sono eloquenti il Serenio sicuramente meritava almeno il pareggio perché ci ha provato però sono quelle vittorie che io mi auguro domenica si trasformino in benzina potente perché la Casatese secondo me vorrà blindare il terzo posto e quindi non verrà al Tassara per fare la scampagnata domenicale quindi il Breno deve cercare di concedere meno campo possibile ieri si è ritirato tutto nel secondo tempo nella propria metà campo favorendo l'azione del Serenio questa è una cosa pericolosa tutto può succedere abbiamo visto la classifica domenica tutto può succedere è bello del calcio anche questo sia per in posto vai per gli off non essendoci la forbice non so quante squadre ci vogliono arrivare qua Virtus Cisarano-Burusa-Porto il derby bello ieri abbiamo visto anche qua sugli scudi i portieri due traverse da parte del Virtus Cisarano forse è arrivato più in forma alla fine del Virtus Cisarano del Brusa non so poi le motivazioni sai ma io ti dico il Brusa a parte la gara ben giocata con Lumezzane vanificata dall'errore del portiere alla fine era già da un bel po' di tempo che mi sembrava avesse tirato i remi in barca credo che però questa partita volesse fare una bella figura la Virtus Cisarano-Bergamo è una squadra che io ti dico a conti fatti ha un potenziale enorme però ha sempre avuto questo rendimento altalenante perché ha alternato grandissime prestazioni e delle sconfitte incomprensibili questo è un gol veramente meraviglioso che non mi stancherò mai di guardare perché l'aggancio e poi la giocata l'aggancio e la tocca mamma mia un gol veramente fantastico però poi vedendo anche le immagini l'arbitro ci mette anche qualcosa nel suo Arnaty qua stiamo rivendo il gol poi parleremo di chi sono quei due o tre giocatori di Virtus Cisarano Caraffa Panatti una tecnica eccezionale ha risolto spesso infatti l'assist arriva credo da Panatti il numero 10 esatto bravi a essere andati a prendere questi giocatori eh sì però il Brusa credo che non abbia voluto fare da spettatore c'è un episodio che dopo credo adesso non so quando vedremo di un rigore questo invertito non invertito va a ammonire l'attaccante forse vedo male io viene ammonito l'attaccante per simulazione di falla cioè qua a me io qua vedo due gambe che vengono agganciate e l'arbitro non è poi tanto distante Panatti che vola perché è stato agganciato e l'arbitro lo ammonisce per simulazione è quasi un mezzo arancio per carità va bene per cartellino io infatti ci arrivavo parlavo con Paolo io pensavo essere il rosso beh è chiaro è forse un po' defilato ma è chiaro è chiaro è forse un po' arriva lì infatti vedete poi che l'attaccante si dispera a mettere le mani ai capelli perché dice ma cos'è questo giallo a fischiare poi va verso l'attaccante dice adesso ti do il giallo per simulazione e lui dice ma dove beh domenica scorsa Carobius era lamentato dagli arbitri credo che stavolta non si lamenterà dai per fortuna non è una partita di quella che contava per la salvezza o per la vittoria del campionato altrimenti era un errore malornale secondo me il direttore di gara che non è tanto distante ho detto Caranfa ho detto Panatti ha detto lui della Vito Ciserano che ha però alterna questi risultati ho sentito oggi del Prato ha cinque giocatori importanti da serie di importanti e poi c'è il gruppo di tutti i suoi ragazzi del settore giovanile è una politica che la società ha fatto è stata premiata ha portato a casa la salvezza con tutti i suoi tanti ragazzi del settore giovanile e oggi Ivan ha detto oggi Ivan ha detto beh ci sediamo ne parliamo poi vediamo il rinnovo del contratto uno che accetta di allenare la Vito Ciserano sa che questo è il progetto o accetti il progetto o cambi se hai voglia magari di alzare un po' la sticella dice che non alzerà la sticella la Vito Ciserano non credo ma la politica è questa lavorano tanto sul settore giovanile e i ragazzi che hanno nel settore giovanile sono importanti sono due società in quel girone che hanno i ragazzi importanti a Ponte San Pietro e la Vito Ciserano sia uno che l'altro puntano su questi ragazzi anche il Buso a Porto che è quella squadra per gamasca che ha vinto i primi 25 mila euro con più ragazzi quest'anno hanno vinto il Buso a Porto però sei qua aspetta ti fermo adesso esci da allenatore da direttore entrare nella federazione hai detto ci sono tanti ragazzi del settore giovanile cosa succede? Beh succede a maggio a fine maggio e queste squadre si devono spaventare? No queste società vengono tutelate c'è un discorso che il 2006 99,9 scatta la regola e firma per un anno gli altri verranno il 2005 2004 2003 verranno piano piano però restano tesserati le società andrà a 24 anni dopo andranno a 22 a 23 Ah non era paura che da domani mattina non scatta grazie anche all'intensuramento del ministro nuovo che è arrivato però questa è una legge di Stato voluta da un ministro che non sa neanche se il pallone è rotondo o quadrato poi non solo il calcio c'è la palla a volo la palla a canestro hanno tutti queste difficoltà però il 2006 c'è ricordato la società che il 99,9% firma un anno alla volta la legge è legge non possiamo cambiare infatti ti ho dovuto chiedere perché poi uscirà l'ultima puntata è il 29 maggio infatti avremo un po' di direttori sportivi parleremo insieme cerchiamo di parlare di questo comunque in Embrione c'è questo cioè il 2006 sarà difficile tesserarli a lungo periodo si tesserano per un anno e poi non è facile per le società bisogna cominciare a cambiare poi c'è anche un altro fattore quello avere non solo le fatturazioni però avete citato tre squadre bergamasche che investono sui giovani ci saranno Bergamo c'è il Brusa Porto il Ponte San Pietro insomma è bello che comunque realtà così importante di Serie D invece che andare a fare anche acquisti importanti cerchino di mantenere la categoria facendo crescere vincono sempre anche la classifica ho fatto tre anni a Ponte a fare il giocatore sportivo due volte abbiamo vinto i 25.000 una volta 10 il terzo posto quest'anno a sorpresa grazie anche ai due o tre giocatori che Carobbio ha fatto giocare nel settore giovanile hanno vinto i 25.000 ha giocato spesso un 2006 il Brusa ecco il Brusa Porto non ha la classifica dagli anni passati però porta a casa un premio importante valorizza i propri giovani credo che sia il premio più importante quando poi sai di non riuscire a salire perché chiaramente ci sono vincoli è meglio farlo far crescere i propri giovani però bisogna trovare anche allenatori che accettino questo ruolo perché non è facile trovare un allenatore come dice lui alzare la sticella e se la società punta sui giovani se ti devi adeguare al progetto della società se non ti adegui è meglio Carobbio da questo punto di vista è stato bravo secondo me Filippo è uno degli allenatori più bravi in questo girone però che non ha mai rischiato insomma Brusa Porto è sempre stato fuori poteva quasi rischiare di entrare in playoff ma mai in basso a un certo punto per questa classifica ha fatto giocare qualche giovane più perché questa classifica vale fino a 5 giornate della termine non puoi farlo con la squadra già salva e far giocare i giovani fino a 5 giornate della fine c'è questa regola poi gli ultimi 5 non conta più niente e se retrocedi non li prendi e qui c'è la grazia è giusto credo che comunque sia corretta questa analisi uno che va a lavorare in serie D o allenare in serie D in una società come questa il primo 25 mila fa il comodo a tutti è un investimento anche per il futuro abbiamo allenatori bravi Carobio Giacomo Vignani che non è allenatore di serie D in questo momento è un altro obiettivo del Prato però quest'anno le squadre bresciane sono state meglio delle bergamasche no ve la butto lì mi tolgo anch'io hanno investito anche qualcosina per me secondo me le squadre bergamasche sono anche di più potevano fare qualcosa in più secondo me come ha detto la Calepina poteva fare qualcosa in più poi Villa Valle penso che sia la squadra che tutti gli anni soffre e non si capisce perché perché come investimenti partono sempre con delle azioni anche perché sono arrivati anche un sacco di giocatori penso che il Villa Valle abbia tesserato veramente 2-3 anni che parte per un obiettivo non di poter vincere ma di 30 tutti gli anni che finisce impelagato per non retrocedere fermiamoci dai pausa pubblicitaria e poi entriamo partiamo con le categorie avevo detto a Felix che avrei tenuto d'occhio il cronometro è dura ci proverò dai fermiamoci e siamo ancora in onda in diretta qui su Antenna 2 tempi supplementari puntata speciale ma chiaramente parliamo anche di calcio ma il ricordo è vivo del nostro amico e compagno Luca Carminati sono tanti messaggi che arrivano continueremo a leggervi nel corso di tutta questa puntata uno tra questi arriva anche dall'ex direttore di Più Valle TV Walter Bianchi che dice ricordo con piacere i tanti lunedì sera passati insieme dopo la trasmissione ciao Luca e poi ne è arrivato uno molto particolare legato alla serie D che vi leggeremo anzi vi faremo vedere anche il video che è legato ma tornando a parlare di calcio giocato ho una domanda per il nostro Gigi visto che ci ha anticipato qualche regola e qualche novità legata alla serie D ci chiedono scusate ma il 99 si svincola a 24 anni oppure a 25 in merito chiaramente alla regola di prima del 2006 si decide tutto fine mese però al ragazzo che ha scritto il 90% sarà a 24 però non è ancora deciso stanno facendo tutti i calcoli ma penso che per il 99 scatti a 24 questo non vede l'ora di svincolarsi a quanto pare non capisco il diagolo di svincolarsi provo a controllare anche se magari qualche mio giocatore che si ha rotto le scatole vai a vedere mi fai vedere la foto vai a vedere insomma magari stai controllando nel frattempo guardo il nostro Angelo il nostro Felix per vedere se abbiamo il contributo ce l'abbiamo che ci fa piacere anche questo contributo perché ci vedono da e questo ci fa piacere insomma facciamo per te lo insieme a Carlo insieme a Paolo la serie D l'abbiamo portata anche per quello anche perché insomma è una trasmissione che avete voluto insieme la serie D a me onestamente mi manca e mi stupisce come la serie D sia un po' snobbata a livello televisivo merita molto di più vediamo il contributo siamo pronti la verità caronese ma corno altri giocatori altri centrocampisti importanti che dicono l'anno prossimo comunque vogliamo fare la serie D perché è indelicato in Porta è una vetrina per restare in serie D è un portiere fortissimo per me la caronese vedi che vende cara la pelle fino alla fine sono una squadra che darà fastidio a tutti come diceva Paolo come diceva Paolo vedi la caronnese ha dato fastidio a tutti anche ieri a Lumezzane è il video che ci è arrivato direttamente dalla famiglia del portiere indelicato proprio della caronnese e scrivono volevo farle condoglianza alla famiglia di Luca ricordandolo con questo commento dedicato a mio figlio indelicato appunto portiere della caronnese credo che fosse la sua ultima puntata proprio lì con voi un ricordo che mi porterò nel tempo e del quale sono orgoglioso grazie Carminati quindi insomma bel messaggio perché ci riempie anche noi ci lo portiamo sempre nel cuore ci fa piacere è un messaggio ancora in più e anche la competenza di buon Luca Carminati anche sui portieri c'era niente da dire andava io ho giocato un porta da poverino ma Carmin tante volte mi andava a trovare delle cose che dice sì è vero solo il movimento del piede se non sei un preparatore se non sei un portiere non lo hai fatto non lo hai praticato chiaramente ai giudizi lui soffriva quando vedeva i portieri sbagliare in realtà non era voglia di criticare e basta nel senso io un errore così non l'avrei fatto lui soffriva proprio perché diceva l'errore tecnico va corretto e quindi era un po' anche una tiratina di orecchie a certi preparatori che forse sono un po' distratti io adesso partirei continuati i messaggi che sono tanti con la festa da Falco ti avevo detto eccellenza ma prima diamo una festa ovviamente diamo merito a una squadra che ha vinto il campionato sale in eccellenza per la prima volta una storia era la prima volta una storia nel campionato di promozione adesso sarà la prima volta troppo nero azzurro per me stavo dicendo esattamente la cosa contraria di Paolo Piccinelli questo nero azzurro è già favoloso di suo insomma in questo campo è un spettacolo come abbiamo detto ieri lasciami ricordi cioè sembra tutto è stata una domenica dove il Carmi ha guardato giù e ha detto le mie squadre le proteggo dall'Inter al calcio femminile la sua Roma la sua Sertorini e la sua Giacinti la Falco la Gandinese che l'ha portata là perché più di lì la Gandinese era una trasferta difficilissima quella ieri a Brusaporto contro un grande oratorio Brusaporto dunque ha portato bene a tutte queste sue squadre perché erano le sue squadre questa è la Falco che arriva in eccellenza parto da te Giorgio perché c'è solo che da dirgli bravi da dirgli bravi perché sia difatti ho sentito proprio vedo va mister rosso di capelli non si può vedere dico subito vedo va davvero ho spaventato ieri ho avuto il tempo di fare una telefonata massi vedovati il mister perché è qualche anno che sta facendo dei capolavori bisogna dirgli bravo con quello che ti darà che gli danno trasforma in oro ma mi ricordo quando ci incontravamo con Selvino che le sue squadre hanno sempre giocato bene dalla Falco ha fatto una cavalcata importante e poi non dimentichiamo che comunque lui quest'anno in promozione ha giocato con dei giocatori che fino a 3 o 4 anni fa giocavano in seconda categoria e ha vinto la promozione e ha vinto la promozione da inizio alla fine delle corazzate diciamo c'è la corazzata torre del rover la corazzata casazza e questo ha vinto ha vinto con quello che gli è che gli è andato in mano e l'ha trasformato in oro non l'ho mai sentito una volta lamentarsi e sempre andare avanti giù il cappello bisogna dirgli bravo sì bene l'anno scorso sono partiti per salvarsi e ha vinto il campionato di prima quest'anno addirittura erano candidati l'autocessione tutti gli davanti erano dati per una scuola e ha vinto la promozione e cosa vuoi dire tanto di cappello perché veramente ha fatto due miracoli sportivi Gigi perché non è mai stato scelto vedovati o magari è stato scelto da queste o è arrivato adesso in eccellenza si è sempre tutti gli anni lavorato gran bene io la penso come Giorgio ha sempre lavorato bene per me è un amico è un po' particolare è un personaggio particolare gestisce i gruppi a modo suo è bravo tante volte viene criticato non dalla sua squadra ma dall'esterno per certi cambi che fa per far riposare certi giocatori ha le sue idee secondo me è un allenatore che farà bene anche in eccellenza lo dico adesso che non è ancora da partire niente quel gruppo della Falco con due o tre innesti potrebbe far male anche in eccellenza perché è una squadra che sta andando a doppia velocità degli altri l'ho visto 5 o 6 volte quest'anno insieme a Felix è questa squadra questa squadra va più forte degli altri è molto più veloce sia di mente che di tutto poi c'ha la punta che è importantissima che ha avuto la sfortuna con un incidente stradale di star fermo due anni e poi è rientrato sento che la differenza la faccia questo no no chiaramente la fa la punta la differenza ma tutta la squadra però ricordiamo anche quel ragazzino questa punta qua viene dalla prima categoria non è che è andato a prendere o a prendere un giocatore di due o tre categorie sopra che diciamo che è normale che faccia la differenza soprattutto una cosa che mi ha impressionato conoscendo un po' anche i giocatori della Falco sia quelli che giocano che è facile per un giocatore che gioca dire che l'allenatore è bravo però anche quelli che stanno fuori non ho mai sentito nessuno parlare male quindi la cosa alla sua forza penso che si faccia voler bene dai giocatori e questi per lui vanno nel fuoco l'hanno dimostrato i risultati e se questa è la gestione del gruppo Paolo tanto benvenga ve dovete gestire il gruppo così infatti sentivo Gigi che diceva insomma è criticato non è ben visto insomma alla fine i risultati contano più di qualunque altra chiacchiera quindi uno che vince due campionati può fare tutte le scelte che vuole ma diciamo che ha la fiducia piena per i prossimi cinque anni e poi come li ha vinti l'anno scorso in prima ha sbagliato le prime tre partite quando doveva trovare la quadra e poi ha praticamente sempre vinto ha dominato il campionato e quest'anno è stato in testa dall'inizio della fine anche perché ha vinto comunque penso con un budget normale se non da Peracchi non prende un po' meno anche meno non ti mancherà nulla da Peracchi quello che ti promette però penso che le squadre lì davanti penso che la Falco faccia 4-5 campionati con quello che spendono in un anno questo girone la più della usa è la Colognese che poteva essere esatto non farà neanche i playoff io non fai i playoff mi fate fare un commento al pubblico perché è bellissimo anche la cornice di pubblico che si vede anche nei nostri nei nostri stadi e io sento e seguo sul gruppo nostro dei tempi supplementari spesso commentare appunto tanta gente a vedere il nostro calcio direttantistico qui è una partita importante decisiva ma insomma bello vedere anche tanti giovani ho visto anche il settore giovanile coinvolto perché insomma il gruppo poi si fa partendo anche dal basso non so cosa ne pensate è vero poi quando vinci è anche facile onestamente esatto poi saltano tutti sul calcio vai a Gandino vai a Gandino in semifinale Coppa l'esempio nostro è stato in semifinale a Gandino c'era il mondo abbiamo vinto abbiamo festeggiato abbiamo perso dopo 5 minuti che avevamo perso eravamo aggiunto i dirigenti e basta quindi è facile dire però a Gandino il pubblico è importante no no chiaro è uno dei dei posti dobbiamo dirgli grazie però in finale sono andati via tutti giustamente Mari sarei stato così anche io sarei stato il primo ad andare via se ero del pubblico però quando vince è tutto un po' più facile Stefano Gigi ha detto con 2-3 innesti questa Falco può far male anche in eccellenza tu come la vedi io pensavo dovesse cambiarti più dopo c'è la regola ai giovani ci sono tante cose devo dire l'anno scorso la pensavo diversamente da Gigi pensavo come tutti gli altri che avevano fatto molta fatica in promozione e ha vinto il campionato io te l'avevo detto a Agosto che vincere la Falco l'anno scorso che ricordassi che io l'avevo detto sia a te che al presidente della Falco che avrebbe vinto il campionato quindi io anche adesso sono in disaccordo con Gigi secondo me sempre qualche innesto e più però spero di sbagliarmi spero che abbia l'accordo Gigi e che abbia ragione Gigi e che facciano ancora un grande campionato a questo punto penso che l'innesto più importante sia che rimanga l'allenatore beh sì l'allenatore rimane di sicuro dai non va via un allenatore che vince del campionato poi ha voglia anche lui di provare l'eccellenza poi la provo con i suoi ragazzi è diverso se andare in un altro gruppo in eccellenza non è come salire col tuo gruppo devi creare posso dire che ho allenato una squadra ma ho avuto sempre 6 o 7 giocatori che allenavo da anni io vi faccio la domanda delle domande ma questo gruppo può far bene poi in eccellenza sì può far bene può far bene ci sono 5 o 6 elementi che in eccellenza potevano già giocare quest'anno e come ha detto Giorgio nessuno li conosceva giocavano in prima categoria e questo è stato bravo lui a metterli insieme e costruire il gruppo ha confermato o dobbiamo aspettare la Lombardia cosa deciderà sulla regola dei giovani Roma ha confermato solo due giovani 2004-2003 2004-2003 quando era arrivato Tavecchio da 4 siamo andati a 3 io spero meno male io sono uno fuori dal coro io otterrei la regola di Roma come hai detto te sei come noi però io mi accontenterei in visita del 2005 magari giungono 2002 farai giocare il 2002 il 2002 al massimo si mette come riguarda verrà probabilmente riconfermato il 2002 perché il 2005 non è il 2005 è già in serie D e ce ne sono pochi hai perso i due anni di Covid vieni via i due anni di Covid è un'annata piuttosto particolare sì ma è una domanda da rivolgere a Bellani e company tocca a loro decidere se viene inserito il 2-2 va bene le società eccellente di promozione dicono va bene l'abbiamo già non è un problema è 22 anni esatto stavo dicendo 2002 giovani adesso non dire non sono più giovani no però insomma a me piacerebbe il 2022 per non perderli perché vanno a finire in seconda categoria o in prima categoria è tutto lì dare a loro la possibilità di giocare visto che non hanno potuto giocare per il Covid di poter dargli questa possibilità visto che siamo già in promozione Felix vai pure con le immagini abbiamo le altre due partite Lazzano grazie agli amici dell'Azzano e all'intervista sì abbiamo lui quello che abbiamo dato prima Gigi che hanno una punta l'uomo dei capelli rossi no abbiamo la punta l'uomo dei capelli rossi deve venire qua da noi uno di questi lunedì ma verrà con i capelli rossi no credo speriamo di no dai la pizza però con i capelli rossi con il poggio paura che con il poggio paura ma sentiamo il bomber quello che è un bomber importante pochi ce l'hanno sentiamolo complimenti per questa grandissima vittoria di questo campionato penso sia un vittoria meritata sì credo di sì alla fine credo che abbiamo meritato di vincere oggi abbiamo fatto una grande prestazione potremmo avere un po' di paura davanti al nostro pubblico però abbiamo fatto una grandissima prestazione abbiamo meritato di vincere alla fine è arrivato questi grandi successi inaspettati inizio anno ma come era inaspettato anche l'anno scorso siamo molto contenti andiamo avanti l'anno scorso Luca Carminati da parte della Falco ma sua personale perché l'ha sempre usannato anche il buon Carmi il Cortinovis però passava una cioè era improponibile praticamente la voce però l'ho detto io per lui insomma praticamente dimmi Stefano mentre dico a Felici di mantare pure sia la Casazza che ha perso come immagini e sia la Zano mentre noi parliamo velocissimo sulla Gavarnese perché abbiamo esaltato giustamente la Falco ma la sconfitta della Gavarnese lì è pesante perché adesso la Gavarnese è in piena zona play out non ha più nemmeno la forbice in questo momento farebbe play out e quindi nell'ultima giornata di domenica si gioca tantissimo mentre è dietro e affronta io pensavo affrontava una civili attese ormai cioè nel senso dire e invece no la civili attese e invece affronta una civili attese che ha ancora l'occasione per poter fare il play off non è matematicamente tirata fuori perché ha un punto e quindi chiaro dipende dalla risultata di quella che ha avanti però può provarci queste sono le partite un po' che contano che hanno dei risvolti possono avere degli risvolti altre non abbiamo messo perché mai sono partita dunque ci sono Lazzano che gioca con l'Asso Kakos qua per Kakos retrocessa ma per quanto riguarda i play off Casazza Basiano dunque la Gavarnese aspetta anche che magari il Casazza batta il Basiano insomma ci sono queste partite il Casazza è importante perché dopo la sconfitta di ieri deve fare punti per cercare di arrivare il secondo e avere il vantaggio di giocare in casa il play off Pellegris firma il ventiquattresimo gol nel corso del campionato lo firma così e Casazza sembra tutto in discesa perché Covo in difficoltà va in vantaggio 1-0 e invece poi la partita si ribalterà anche qua ricordiamo vi ho fatto vedere i due portieri ricordano Luca Calminate all'inizio e poi scendono in campo e viene ribaltata ecco è uscito il difetto del Casazza troppi gol subiti squadra che segna vero? nel ritorno soprattutto nell'ultima fase del ritorno è calata tanto ha perso tanti punti il Casazza e adesso quelle dietro si sono avvicinate è chiaro che sarà fondamentale in ottica al playoff recuperare brillantezza perché poi lì è partita secca ti giochi tutto in 90 minuti hai visto un errore sul gol che ha ribaltato è abbastanza grave fatti si è arrabbiato anche lui dopo è sfuggita via probabilmente hai ragione tu Arnaldo perché davanti hanno due bocche di fuoco fantastiche il Pezzotta il Pellegris che sono su tutti Signorelli cioè breviario un panchino evidentemente dietro concedono di più perché è l'unica spiegazione e per il Covo invece sono tre punti pesanti perché nella bagara in fondo la classifica cortissima e tre punti sono davvero pesanti per il Covo sì anche perché arrivavano da un momento il Covo in nettissima difficoltà abbiamo perso quasi tre partite qua in fine sai frontale il Casazza che Casazza giocava il campionato vabbè dopo magari vedeva il risultato anche che arrivava dalla Falco che si è sbloccato subito però non era facile avrei scommesso più su Casazza sicuramente rispetto alla Juventina Covo beh ci proveranno ci proveranno Gigi poi prima andrà a pubblicità tramite i play-off adesso c'è anche il Torre dell'Ovri c'è una pagazzanese che sta bene ma chi vince i play-off i play-off qua non è che vinca i play-off di promozione sono lunghi fino a metà giugno si gioca sì non è come le cienze magari la settimana prima ti può regalare la possibilità di andare su Labbino Gandino ricordiamo è salito tramite quello la Vertovese forse non sono sbaglio è salita anche tramite i play-off sì però la Vertovese aveva vinto i due l'essusione e i due turni dopo quello che ha detto Gigi aveva vinto quattro turni se in seconda magari la Gandinese secondo me per me è già a posto Robi dice di no mi sto toccando esatto la Gandinese per sperare su un ripescaggio almeno il primo turno di play-off deve vincere una partita nel primo turno di play-off perché questi non li fa perché ha la forbice nel suo girone e già seconda certo deve andare a giocare a fine maggio deve stare fermo un mese è quello però quando va a fare i play-off deve vincere una partita mentre l'Effera l'anno scorso aveva fatto la partita con la Gandinese prima e poi era andato a fare quel triangolare dove aveva vinto una persona e poi era stato l'Effera è stato soltanto un turno perché il secondo appunto era ripescato come seconda dedichiamo alla Gandinese a tutto il mondo promozione NC dopo la pubblicità esatto eccoci ancora in diretta Arnaldo insomma è una puntata davvero speciale abbiamo anche stravolto la scaletta dall'eccellenza alla seconda categoria mixiamo tutto ma ci piace così una serata speciale per ricordare il nostro amico e il nostro compagno di squadra Luca Carminati ma senza dimenticare il calcio giocato ripartiamo come sempre dai messaggi perché arrivano le condoglianze alla famiglia d'Antonio da tutta l'US Breno ma poi prima abbiamo parlato della Falco Albino Falco Albino che ricordiamo dedicato per questa promozione proprio a Luca Carminati ci ha scritto il mister Massi Vedomati ringrazio tutti in studio staff e ospiti e voglio mandare un grosso saluto al mitico Carmi che mancherà davvero a tutti poi abbiamo anche una sorpresa per quanto riguarda la seconda categoria ci arrivano video video di ricordo di Luca Carminati di alcuni suoi aneddoti proprio che sganciava qui nelle nostre trasmissioni dove piaceva scherzare anzi e dire la sua ma chiaramente cerchiamo di mettere ordine alla nostra scaletta ripartiamo dall'eccellenza il girone B il girone B dove c'è stato il derby il rivertovese Albino Gandino prendiamo proprio questo servizio quello lì lo vediamo dopo quel messaggio lì quando parliamo in seconda categoria bello un messaggio che è arrivato poi ne parleremo nel girone B anche perché poi dico a chi mancherà io noi teniamo quella foto che mi ricordo una volta Carmi ti rimordi col mozzo o non con la forza costanza che quando punzecchiamo a forza costanza poi hanno detto prendiamo la foto del Carmi mi ha messo nello spoglatoio e anche la forza costanza anche la forza costanza ma anche il mosso mi ricordo e allora i giocatori dicevano prendevamo la forza dalle critiche del Carmi per dire gliela facciamo vedere al Carmi e noi faremo così lo teremo qua per la forza costanza visse i playoff e quella lì quindi porto bene esatto ho fatto così anch'io con Borlini gli ho messo la foto del baffo lì dove si cambia mi sa quanti accappatoi arriveranno in studio a questo punto non so se Paolo ha bisogno di fare delle scommerse gli procuro qualche accappatoio anche a lui accappatoio fa mai male rosso nero lo metto volentieri risultati eccellenza girone B sono questi e poi andiamo subito col servizio del derby questi sono i risultati forse la sorpresa più grossa è lo scanzo che non aveva grandi cose da chiedere ma lo scanzo di Borlini sta facendo grandi risultati commetto veloce poi andiamo ci tiene secondo me a concludere bene dopo il cambio in panca ha cambiato passo e anche se ormai la salvezza in cassaforte continua a fare risultato e ieri ha fatto un regalo enorme alla Vertovese perché ovviamente battendo il Luciano Manac ha sentito la Vertovese di scavalcarlo è un altro sottoclamoroso è quello del Mapello in un tasso 2-0 perde 3-2 con il Val Calerpio non approfitta della sconfitta dell'abrianza originatese quindi non riesce a mettere la forbice al momento il secondo turno playoff dovrà farlo comunque e domenica fermati domenica giocano Ginatese e Mapello chiaro se Mapello vince salta il turno playoff però ieri aveva l'occasione di allungare in maniera pesante e non ha approfittato 2-0 sei in vantaggio Val Calerpio tutto rispetto per il Val Calerpio ma ci mancherebbe però sembra di averla a mano è una delle prime stecche del Mapello adesso appunto domenica la forbice dovrà cercare di metterla domenica mette il Val Calerpio da parte sua conquista punti pesantissimi come quelli da San Pellegrino nei confronti dello Zingoni a Verdellino la forte costanza fa un punticino ma non è ancora salva deve ancora soffrire fino alla fine agganciata dal Leone e vabbè il derby Vertovese a Bino Gandino poi lo vedremo adesso prima di vedere il derby Vertovese a Bino Gandino mentre commentiamo ancora un po' insieme a Gigi i risultati mandami l'immagine San Pellegrino Felix quel minuto e mezzo dove il San Pellegrino ha fatto un risultato importantissimo non è salvo Gigi sicuramente il San Pellegrino però il 2-0 ieri allo Zingonia in un ritorno un po' così alterno dal San Pellegrino è stato importante beh il San Pellegrino ha pagato nel ritorno qualche assenza di troppo nella sua rosa che non è una rosa ampia però vedo che si sono ripresi le due punti sono ritornati a segnare hanno la possibilità di fare la forbice qualcosa di meglio Sampe in maglia bianca e Zingonia ovviamente in maglia gialla Zingonia è il play-out sì Zingonia ha una salvezza diretta ma è impossibile dovrà giocarsi il play-out in questo momento il play-out sarebbe contro il Val Canepio sì poi vedremo sarà importante attrezzo la Vertovese poi ne parleremo adesso la Vertovese va a Trezzo è vero ha vinto il campionato però sei sempre là a Trezzo non sarà facile e devi sperare che Lugiano Manara anche lei dipende con la Leone la Leone ha mollato completamente le ultime partite ieri ha segnato ancora Bonseri ma ha fatto un punto ma nelle ultime partite ha rallentato davvero tanto a livello tecnico tra le due squadre c'è la differenza tra Giorno tra Luciano Manara però l'ultima giornata le motivazioni è più complicata la partita del Val Canepio che gioca con la Prada Lunghese anche lei non ha mollato niente nelle ultime partite continua a fare risultato e ha vinto a Cisano e non penso che regalerà nulla nemmeno Domenica al Val Canepio ricordiamo che noi cercheremo di essere presenti magari sia a Trezzo dovremmo essere perché le immagini saranno saremo a Prada Lungha mi piacerebbe essere vedere Prada Lunghese e Val Canepio ci saremo sicuramente vedremo le nostre telecamere per lunedì il prossimo poi torneremo servizio andiamo a vedereci dai servizio del derby la verdolese Albino Gandino con le parole anche di Bolis al di là della partita poi ricorda anche ricorda un po' anche il buon Luca Carminati servizio di Stefano nella penultima giornata di campionato del Giro LB di Eccellenza il derby seriano tra Vertovese e Albino Galino vede trionfare il padrone di casa per tre reti a uno anche qui a Colonio Asseio minuto di silenzio prima della sfida toccante ricordo per Luca Carminati dopo il match ha regalato un successo prezioso alla Vertovese che ha sbloccato la sfida con Messelaglia ha raddoppiato con Manenti e poi ha chiuso nella finale con il subentrato Rudelli tre punti che danno ancora speranza e salvezza ai padroni di casa dalla parte opposta Albino Galino già ha retrocesso matematicamente ha lottato ha provato a tenere aperto il match fino alla fine alla fine è arrivata una sconfitta onorevole giocando la sfida a testa alta fino ai minuti di recupero mister Barco Bollis è arrivata la seconda vittoria consecutiva vittoria importante che rimette in corsa per la salvezza sì diciamo che era l'unica possibilità che avevamo di vincere questa partita per non avere poi rimpianti l'abbiamo fatto direi nel primo tempo abbastanza bene poi è chiaro che subentra la paura subentra tanti fattori però l'importante era vincere e l'abbiamo fatto quindi adesso dipende solo da noi per poter avere una chance ancora per andare a fare i play out direi come giusto che sia Albino Gandino ha fatto la sua gara ha riaperto la partita e poi per noi è subentrata tanta paura infatti da lì abbiamo giocato poco o niente insomma l'ultima sfida di campionato in casa della Trizum che il campionato l'ha già vinto dovete fare tre punti per forza altrimenti c'è la forbice che che purtroppo soccombe su di noi e quindi abbiamo solo un risultato cercheremo di dare il massimo poi vedremo un'ultima domanda legata alla scomparsa Luca Carminati un suo ricordo guarda io Luca l'ho conosciuto quando ero ad Arfo ad allenare dire che era un uomo eccezionale ma non lo dico perché sono rimasto troppo male credimi anche con mia moglie ne parlavo gli ho detto non ci posso credere nel giro di poco da lì in trasmissione non infatti mi chiedevo come mai non ci fosse più e non sapevo proprio di questa sua malattia condoglianze veramente alla famiglia ovvio grazie anche a Riccardo a Marco Bollice lui era molto toccato anche ovviamente l'ho percepito anche a telecamere spente perché era davvero era davvero toccato è la prima cosa che mi ha detto appena uscito dello spogliatoio della partita non mi ha detto praticamente nulla se non quello che mi ha risposto davanti a telecamera eccellenza ci velocizziamo adesso perché poi abbiamo la prima e la seconda abbiamo questi messaggi ancora a mandare una puntata così beh la uscita dai tutto sommato penso piacevole anche per il ricordo di Luca questi sono i risultati di Arfo Paolo che la sono aperto tante cose ancora playoff e playout la sono aperto per quanto riguarda il playoff l'unica vera notizia è che l'ospitaletto è rientrato e sta occupando l'ultimo posto utile invece il Rovato è uscito perdendo a Carpenedolo 1-0 come vediamo dalla grafica interessante però è la situazione di bassa classifica dove lui generizzato sono già retrocesse c'è il Codogno a 33 che è quello che rischia di più di non fare i playout perché potrebbe arrivare la forbice però vediamo che sono coinvolti Carpenedolo Darfo Boario e Vobarno una di queste potrebbe provare a salvarsi addirittura credo che anche l'Abedizzo Leisea 42 non sia ancora del tutto sicuro ha bisogno del pareggio domenica il Darfo affronta in casa il Codogno e se vince fa una bella cosa ma ha bisogno anche che il Carpenedolo non vinca e quindi ci sono tante combinazioni che ancora vanno valutate volta per volta c'è quel son cinese Boario perché anche la son cinese volendo però basta il pari cioè nel senso Vobarno non ha più tanto il Vobarno è un'altra di quelle che sa già da fare il play out dalla sfortunata insomma nel senso parte in minoranza qua sono Codogno Ciliverghe Codogno in maglia blu e vediamo che ogni tanto i portieri non so partono è una cosa che non riuscivo a capire Ciliverghe comunque ha già da tempo mollato ha fatto qualche buona prestazione ma insomma diciamo che se io devo indicare una squadra che ha deluso quest'anno lo dico è proprio il Ciliverghe credo che loro si aspettassero un campionato completamente diverso avevano allestito una rosa importante affidandosi ad un tecnico come Robi Crotti e quindi insomma le ambizioni erano ben diverse poi il campionato è andato come è andato il Codogno ha vinto questa partita che per loro è fondamentale perché gli permette ancora quantomeno di sperare di fare i play out ovviamente da sfavorita però domenica ad Arpo loro si giocano praticamente tutta la stagione e dopo il Codogno vedremo le immagini anche dell'ospitaletto che è rientrato hai detto vinto 1-0 col Caravaggio questa doveva vincere per forza per poter rientrare non era facile col Caravaggio anche se il Caravaggio è abbastanza sicuro della sua posizione però siamo sempre lì perché l'ospitaletto è quella via che se fai i play out fa tutto sommato bene se non li fa sì anche se tu mi hai detto che hai parlato col DS che dice no vabbè noi abbiamo fatto bene comunque io non sono tanto convinto che se l'ospitaletto non va i play off loro sono contentissimi a meno lui magari è contento ma altri suoi colleghi dirigenti secondo me non lo sono io credo che debbano essere comunque soddisfatti al di là di tutto perché venendo dalla promozione hanno fatto un ottimo campionato hanno avuto anche situazioni insomma perdere Berta l'abbiamo detto tante volte non è una cosa che puoi pensare che sia in dolore hanno avuto un Enoch Barroa in condizioni veramente di grazia che ha segnato tantissimi gol e l'essere capaci comunque di rientrare nel play off dopo essere usciti domenica scorsa è un segnale comunque di compattezza e di forza insomma mi piacerebbe vedere anche il Rovato ai play off perché è un'altra squadra che merita secondo me questa posizione di classifica però evidentemente una delle due rimarrà fuori prima di parlare di Darfo insieme a Paolo Gigi Vinicio Spinala allenatore dell'Ospitaletto abbiamo andato a fare le esperienze un anno a Lazio tutti ne parlano bene anche l'Ospitaletto ne parlano bene suo è un bel calcio su squadre che giocano al calcio poi non so quanto paghi o meno però i due fratelli Gio e Spinala sono bravi assolutamente certo come ha detto lui l'Ospitaletto raggiungendo i play off Corona una stagione importante ha giocato la neopromossa e aveva c'erano degli avversari molto importanti in quel girone ha un ottimo risultato certo deve confermarlo perché se si perde le domeniche Caravaggio vince si forma la forbice un'altra volta e dunque diventa la forbice ricordiamo 65 si forma la forbice dipende con chi gioca domenica e Caravaggio certo la sconfitta del Caravaggio complica un po' le cose conto giocare due partite dei play off e conto giocarne una e aveva la forbice evitava evitava una partita poi perdere con l'Ospitaletto i play off perché ormai i valori delle squadre conta molto come arredi fisicamente fisicamente la classifica la cancelli a un certo punto le immagini del Darfo non manderemo intervista del Ministro che tanto bene o male ricordiamo anche lì che nei play off le ammunizioni si azzerano ricordare perché qualcuno pensavo che dicevi è lunga anche lì ma lì si azzerano sono le squalifiche che rimangono iniziano i play off e i play out le ammunizioni si azzerano mi piace ricordare anche le regole tutte le volte perché è importante perché qualcuno fa i conti ma volevo giusto chiedergli a Gigi anche perché poi si va a metà giunto vengono azzerati solo rimane la squalifica se tu l'ultima giornata prendi la quinta munizione si è squalificato la stai fuori certo certo Paolo a parlare lunga con Vigani si fece cacciare l'ultima di campionato sotto il play off queste sono immagini del Darfo ha detto l'ospitaletto sì perché l'anno prossimo l'anno prossimo c'è il rezzato di Musso sì che mi dicono ma cosa ha il rezzato di Musso non è ancora ufficiale ma ormai la voce è abbastanza fondata Musso prenderà in mano questo rezzato sinceramente non so se ripartirà dalla promozione oppure cercherà qualche altro tipo di accordo un cambio di categoria che sia promozione che sia eccellenza il rezzato sarà ancora una volta la squadra da battere qua vediamo il Darfo che concede un gol evitabilissimo al Vobarno Vobarno dell'ex Salomoni e poi salgono in cattedra due giocatori che già in diverse occasioni hanno preso per mano questo Darfo vale a dire Matteolini io qua vorrei capire Toniazzi in porta perché è un ottimo portiere ma qua si è fatto sorprendere in maniera abbastanza puerile e poi vedremo anche Ravelli ex uno dei più forti portieri della categoria e qua Fusard Bassini libera il suo sinistro micidiale qua il portiere nulla può perché è un tiro fantastico ed è stato molto importante anche il recupero di questo giocatore che è mancato tanto come da adesso è mancato tanto spampati quindi credo che la stagione del Darfo il Darfo paghi molto le assenze di questi giocatori importanti però adesso li ha a disposizione quindi già da domenica e poi eventualmente nei play out la loro presenza sarà fondamentale Fusard Bassini e mi è subito venuto in mente Luca Carminati eh i suoi Fusard Bassini con Stefano mi punzecchiava sempre più su Andrea sì più su Andrea mi punzecchiava più su Andrea che su Marco perché mai Marco è andato via a fare le categorie mentre Andrea è rimasto qua anzi voglio fare un bocca al lupo a Andrea ieri perché è uscito malconcio dalla partita ieri ha detto ho paura di averse mirotto qualcosina lì verso il piede non c'entrava la cadiglia ma ho sentito proprio quello che è molto zoppicante e avevo cominciato non parlavo con Fiora e Giorgi aveva cominciato a giocare costantemente molto bene aveva messo posto il centrocampo bravo l'arbitro secondo me qua senza tirare fuori i rossi ha capito che insomma ha diviso i due giocatori basta dividerli e poi gli anni si placano l'arbitro anche Stazza è importante perché si è messo in merda tu baffo ridi ma è molto importante è una difficoltà di un arbitro non l'ho detto in battuta era di Bergamo l'arbitro non lo so lo conosci? sì è uno che ci avrà litigato come minimo no l'ho buttato fuori è uno dei più bravi che c'è mi è sembrato lui è bello ha detto giusto Paolo la stazza fisica di un arbitro che ti dà l'autorevolezza anche in campo ogni tanto per gestire qualche situazione credo soprattutto pensa alcuni ragazzi questi essere abitrati da Carminati che ti arrivano avanti dal buon Luca Carminati ti facevi paura poteva fare anche l'arbitro sì ma tu sì l'abbiamo procuratore DS arbitro praticamente abbiamo deciso che poteva fare tutto nel nostro calcio è che a far l'arbitro non avrebbe potuto giocare i campionati italiani burraco non avrebbe potuto vincere i campionati la domenica lui buon Carmin ogni tanto partiva per fare i suoi campionati italiani burraco andiamo su altre categorie andiamo mentre arrivano messaggi eccetera eccetera io velocemente andrei sulla prima categoria perché poi ne parleremo tanto domenica lunedì prossimo di prima categoria perché ci sono partite importanti ieri c'è stato questo gol dell'aglio che fra poco lo vedremo che ha spaccato praticamente per il l'aglio affrontando domenica il darmine il l'aglio è salvo è un gol che va nella stagione questo perché gli fa vincere lo sconto diretto e lo porta a un passo dalla salvezza domenica giochia contro il darmine il darmine ieri ha preso 6 gol dal pianico insomma il l'aglio a meno di clamorosi clamorosi autogol ha conquistato la salvezza mentre il pianico con la vittoria di Iei ha evitato ogni rischio di retossessione diretta ma di fatto dovrà giocarsi il play out con la brembillese non sarà facile certo che la brembillese domenica scorsa vinceva 2-0 a pianico si è fatta rimontare in maniera incredibile ieri ha perso in maniera altrettanto incredibile contro la squadra che mi sembra già non può e per di più ha parezzato con il cittadinabile falino di coda ha spaccato 3 match point clamorosi la brembillese guarda domenica cosa c'è palladino a gorle pianico a sovre zognese brembillese vai che è un derby zognese brembillese sempre comunque un derby queste sono le partite che ci sono però andiamo a vedere il calcio giocato andiamo a sovre averci sovre cenate arrivava la squadra che ha vinto il campionato contro sovre che deve mantenere il secondo posto gran gol di Carrarino che dedica poi il gol al buon Carmi con 1-C dopo aver fatto il gol vediamocela ai servizi un ricordo anche del nostro opinionista Carminati perché anche voi l'avete conosciuto tutti insomma sì partirei proprio da quest'ultima cosa è stata una doccia fredda che nessuno si aspettava un amico uno comunque con tanta passione per il calcio poteva magari risultare antipatico simpatico ma a fine quello che lo contraddistingueva era proprio la passione che aveva per questo sport quindi siamo tutti spiaciuti e ancora increduli quasi a distanza di due o tre giorni dalla notizia che ci è potuta succedere per la partita direi che abbiamo fatto il nostro ecco loro sono venuti qua sazi naturalmente di aver vinto un campionato meritatamente perché bisogna dare merito a questo cenate che ha avuto più continuità di tutte quindi se l'è guadagnato non ci hanno reso la vita proprio facilissima però alla fine insomma la nostra determinazione oggi credo che abbia fatto la differenza e credo sia anche una vittoria meritata eh sì è una partita importante per entrambe per noi che dobbiamo difendere il secondo posto che è basilare per affrontare al meglio i playoff e loro per la salvezza adesso non so se può salvarsi direttamente o comunque giocarsi la carta dei playoff quindi è un derby nel derby sarà una partita tosta dove davvero il risultato stavolta conta ma forse anche la bellezza di questo sport spero che comunque sia sempre un bel derby fatto di agonismo ma anche di correttezza e di rispetto dell'avversario quindi di questo ne sono sicuro quindi mi aspetto domenica una grande prestazione ma abbiamo tutta la settimana per prepararci al meglio per questa partita che è importante per loro ma allo stesso modo anche per noi allora Beppe Marchesi è natore del Cenate uno che conosceva bene il Carmi ci siamo sentiti domani dovrei essere ospite da noi rimandiamo più avanti ma andiamo a salutarlo il Carmi dai Luca era un amico lo conosco praticamente da sempre facevamo i tornei insieme quindi Luca era Luca magari anche fatto la tranquillità non dove per forza il risultato sai si gioca con più serenità quindi escono magari determinate giocate che in altri casi non sempre ha l'azzardo di farli quindi la differenza è stata proprio questa secondo me quindi ovvio siamo venuti senza ovviamente giocandocela tranquillamente facendo la nostra partita e dando comunque sempre il massimo come abbiamo sempre fatto tutto l'anno promozione sicuramente è una categoria importante dove bisognerà ancora di più impegnarsi ancora di più dare tutto dal primo giorno all'ultimo senza mai sacrificarci un esempio tra l'altro la Falco l'anno scorso ha vinto il campionato di prima categoria e oggi ha festeggiato il salto in eccellenza sì è vero un passo alla volta adesso godiamoci la vittoria del campionato di quest'anno che è stato molto duro perché comunque sono stati è vero che abbiamo perso poche partite è vero che abbiamo fatto bene perché i ragazzi sono stati veramente ma veramente bravi non hanno mai mollato io l'ho detto più volte che in merito secondo me è loro perché è ovvio che vanno in campo loro ma è ovvio che non non hanno non hanno mai mollato e questo secondo me è il gruppo che si è creato quest'anno io poche volte anche da giocatore l'ho visto c'era quella sintonia che c'era tra i giocatori quella amicizia proprio profonda e secondo me è questa che ha fatto la differenza per noi oltre al fatto che sono giocatori di ottima qualità insomma abbiamo visto due gol per fuori giochi un po' piuttosto dubbio di Prandini del buon Carrara subito dai Pianico servizio del Bombe Dovati sulla partita fra e qui sono tanti gol Dalmine Pianico 1 a 6 è terminata con il punteggio di 1 a 6 in favore degli ospiti questa 29esima gara qui a Dalmine per il Gilone e di prima categoria Lombarda che ha visto appunto prevalere il Pianico qui contro la città di Dalmine con il punteggio di 1 a 6 diciamo già al primo tempo che aveva decretato la vittoria del Pianico visto che il punteggio si era già issato sullo 0 a 3 con la rete da parte del numero 9 Speziari e dopo diciamo altre due reti fra cui quella anche di Camanini che così ha raggiunto la doppia cifra diciamo stessa Solfa spartito che non cambia durante i secondi 45 minuti di gioco dove il Pianico entra in campo fa subito con la doppiata di giornata sempre di Speziari la rete del 4 a 0 però dopo accorcia su calcio di rigore Zanchi ma altre due reti nel finale issano il tennistico 1 a 6 in favore degli ospiti che così confermano e andranno a lottare quindi per la zona play out e l'ultima partita appunto il Pianico se la vedrà contro i cugini del Sovere i quali però sono già sicuri della zona play off mentre città di Dalmine che già ampiamente retrocessa comunque ha cercato di lottare fino alla fine siamo qui con il direttore sportivo del Pianico comunque vittoria rotonda quest'oggi qui a Dalmine sensazioni comunque della gara della prestazione dei ragazzi sì la partita si è messa subito bene contrariamente come siamo abituati nelle altre domeniche perché di solito abbiamo un approccio alla gara decisamente negativo invece oggi abbiamo messo subito in chiaro che l'obiettivo era quello di vincere e ci siamo riusciti loro sono usciti un po' dopo e noi ne abbiamo approfittato chiudendo praticamente la partita nei primi minuti prossima partita ultima partita trentesima gara con i cugini del Sovere comunque diciamo partita che ai fini della classifica non cambierà tanto però per diciamo quelli che saranno poi i play out sarà una partita comunque da affrontare con il giusto atteggiamento esatto dovremo cercare di portare a casa a qualche punto e guadagnare magari una posizione ma bisogna vedere adesso anche i finali degli altri campi perché poi bisognerà fare veramente i conti la situazione non è delle migliori però diciamo che oggi ci hanno dimostrato una squadra in salute quindi andiamo con un po' più di ottimismo ad affrontare questi play out eccoci rientrate prima che te lo riuscivo con la seconda perché abbiamo da chiudere con qualcosa ripartiamo ripartiamo dai messaggi ricordo proprio del nostro Luca arriva un grandissimo braccio da parte di tutta la pagazzanese alla famiglia di Luca Carminati con doianze dalla DS Sala ma è il momento di leggervi un messaggio e poi guardiamo una foto e un video grandissimo Luca amico e compagno di squadra mi sei stato vicino per tutto il campionato e ogni lunedì mi hai sostenuto invitandomi a non mollare mai grazie di tutto ce l'abbiamo fatta Luca riposa in pace Giorgio Gorrini e poi sempre Giorgio ci allega una foto che era della Nembrese 96-97 promozione eccola qua la vediamo in onda in questo momento chiaramente Luca è il portirone di questa squadra e questa tutta la Nembrese sempre faccia da capitano strano trascinatore trascinatore anche nella Nembrese categoria promozione ma per lanciare la seconda categoria e la gandinese proprio Giorgio Gorrini ci ha mandato questo video chiedo a Felix di mandarlo in onda un ottimo campionato e più come parlevamo anche a cena il casnigo del mio amico Giorgio Gorrini primo anno che fa l'allenatore casnigo che è comunque una squadra che subisce pochi gol una squadra che comunque cortomuso come si dice Paolo e alla fine porta a casa quello che interessa i risultati anche una gara da recuperare esatto quindi il casnigo attenzione che è una squadra comunque ben allenata da Giorgio e sta facendo molto bene è un bel campionato comunque il passo falso della gandinese non mettiamo troppe non mettiamo in croce nessuno aperto per chi vuole guardare questo campionato un po' di spillaglio per chi vuole guardare per l'Iranica un po' di speranza per l'Iranica per l'Iranica quella dietro la panno stesso dopo abbiamo visto beh grazie a Gorrini perché sentirlo vederlo mi sembra che fosse qua che era qua il buon Luca ti ha chiamato un causa Giorgio passo falso dalla gandinese no dai fortunatamente ieri abbiamo vinto una partita difficile che è ironico mi collegavo al video no no chiaro chiaro fortunatamente abbiamo vinto una partita difficile perché andavamo su un campo complicato perché nel girone di ritorno il oratorio Brusa Porto è quello che ha fatto più punti insieme a Ranica quindi penso che poche squadre abbiamo fatto una buonissima partita e mi sono fatto pure cacciare dalla panchina perché era stata una partita abbastanza tesa però dai Bo Luca sarebbe contento che saltiamo saltiamo i primi due turni di playoff è chiaro che non abbiamo ancora fatto niente però saltare due turni è comunque importante e poi vabbè ci saremo noi magari l'ultima puntata a essere qua con noi ancora perché lì entra in campo la gandinese quella settimana lì entra in campo e magari con una vittoria come ha detto Genzambelli potrebbe già essere vicino alla festa della prima categoria andiamo a vedere Bonazzi ieri ha fatto l'Euro goal ha deciso Corneli ha Corneli ho preso dal giornale io Bonazzi ma a me non sembravano fatti i Bonazzi no perché nell'ultima partita è segnato Bonazzi infatti ho preso il giornale diceva Bonazzi mi sembrava il biondo Corneli però ho detto vabbè ma il tuo giornale va fuori sì il mio è mio ma un gran gol diciamo che è stato un gran gol in una partita difficilissima vediamo questo piccolo servizio grazie a Gandino Uetv con un grande gol hai regalato la vittoria decisiva per saltare i playoff del vostro giro Annala Gandinese sì sono molto contento per questo e dedichiamo tutta la vittoria a Carminati Luca che purtroppo è venuto a mancare sapevamo che era una partita difficile ci siamo difesi bene è andata bene così ecco è stata una partita anche sul piano del nervosismo abbastanza intensa con emozioni fino alla fine meritavate magari qualcosa in più però l'importante è vincere giusto? l'importante è vincere il nervosismo sapevamo che poteva far parte di questa partita e bisognava solo metterci la testa e stare sul pesto e devo dire che l'abbiamo portata a casa affaticando però settimana prossima c'è l'ultima partita del girone e poi la testa ai playoff sì prima testa l'ultima partita e poi ai playoff anche se l'ultima partita teoria facciamo riposare a parte che hanno un mese da riposare meglio che giochino meglio giocare anche perché comunque è sempre importante fare più punti possibili anche in virtù di pescaggio come è importante la finale Coppa ha avuto per possibilità di pescaggio messaggio possiamo chiusura messaggio sì sentite condoglianza la famiglia di Luca Carminati mancherà il nostro calcio azzano quindi insomma davvero abbiamo passato tutta la bergamasca tutta la bergamasca e non solo in questa serata il ricordo del nostro compagno ecco qua l'azzano infatti abbiamo anche le immagini dell'azzano grazie a Longo che ci manda sempre le immagini dell'azzano chiudiamo proprio con questi secondi con l'azzano noi torniamo l'unico prossimo ancora col calcio giocato avremo sempre Luca con noi la maglia sarà sempre con noi Luca perché non potrà mai mancare il buon Luca Carminati da quella televisione lì mi sembra che uscirà sempre Anna cosa stai dicendo Anna ci sentiamo eccetera eccetera questo praticamente siamo in chiusura a questa puntata dedicata pensavo onestamente da fare più tanta fatica ma invece ci ha aiutato anche su questo Luca a dire col sorriso come è sempre stato lui a condurre questa puntata avevo dei dubbi all'inizio ho detto valutate voi da casa se facciamo bene andare in onda o meno adesso invece ho la certezza che abbiamo fatto bene a ricordare Luca così abbiamo fatto bene sì ad essere qui questa sera penso lo avrebbe voluto anche lui avrebbe voluto rivedere e commentare con noi tutte le parate tutte le partite e insomma so che ci teneva davvero a questa trasmissione e soprattutto ci teneva davvero a questo calcio che lui ha voluto e insomma del quale ha fatto parte grazie Arnaldo per averci giovedì giovedì alle 15 ricordiamo a Peia il funerale sarà tanta gente mandate perché è ancora un saluto che facciamo al nostro Luca Carminati giovedì alle 15 nella chiesa parrochiera di Peia un grazie anche ai familiari che ci hanno seguito questa sera ci hanno scritto anche un coraggio per i familiari questo è il nostro braccio di stasera ma chiaramente condiviso con il resto della squadra che te li lascio salutare tutti uno per uno sì Stefano Savoldelli grazie Paolo Piccinelli grazie per essere stati con noi in questa serata grazie a tutti voi che siete grandi amici il primo allenatore Gizambelli di Luca Carminati e Giorgio Rovecchi dopo sono tanti gli amici però avuto che loro erano con noi grazie di essere stati qua appuntamento lunedì prossimo grazie ovviamente a tutti i messaggi a tutte le società a chi ha lavorato dietro le quinte a chi ha creato questa trasmissione particolare che la trovo sempre nel cuore grazie a Teresa chiudiamo così ciao Luca ciao